l'ambiente sul consumo di suolo. Sono Cristina Pacciani, giornalista e capo ufficio stampa dell'ISPRA. Ringrazio gli ospiti istituzionali seduti a questo tavolo, i relatori che seguiranno e i colleghi del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente e tutti voi che avete deciso di partecipare a questa mattinata. C'è un detto che dice che ci si rende conto di quello che abbiamo perso solamente quando lo abbiamo perso e forse questo è vero ancor più per il suolo, per una risorsa che se persa il consumo di suolo è un processo irreversibile, il suolo che si perde non può essere restituito in alcun modo. Come ho detto sono giornalista quindi mi piacciono i dati, mi piacciono i numeri, ne darò qualcuno estratto dal rapporto giunto a questa quarta edizione. Immaginate la lunghezza di un'autostrada tra Venezia e Mosca, che congiunge Venezia e Mosca. Questi sono i chilometri quadrati consumati in soli sei mesi, quindi parliamo da novembre 2015 a maggio 2016 nel nostro paese. La crisi economica sicuramente ha rallentato la velocità del consumo di suolo, ma l'Italia ha divorato in questo periodo quasi 30 ettari di suolo al giorno, come se in pochi mesi avessimo costruito in Italia 200.000 villette. Sono cifre che spaventano, spaventano noi che ci occupiamo di tutela dell'ambiente, ma dovrebbero spaventare un po' tutti. Il rapporto sul consumo di suolo frutto del lavoro dell'ISP e dell'SNPA, come ho detto giunto alla quarta edizione, fornisce quindi un quadro aggiornato dei processi di trasformazione del nostro territorio, che continuano a causare la perdita di questa risorsa fondamentale che è il suolo. Come ho detto un processo irreversibile, non verrà restituito quello che stiamo consumando. Non è una risorsa rinnovabile ed è vitale per il nostro ambiente, per la nostra salute e anche per la nostra economia. Questo forse sfugge. I dati aggiornati del rapporto sono prodotti con un dettaglio a scala nazionale, regionale e comunale, quindi si scende molto nel dettaglio, grazie all'impegno, come dicevo prima, dell'intero sistema nazionale per la protezione dell'ambiente. Utilizzando tecnologie particolarmente innovative, comprese quelle satellitari. Il satellite ci restituisce dati fondamentali per la comprensione di quanto suolo stiamo andando a consumare. Ma torniamo ai dati. Pur se, come ho detto prima, con una velocità ridotta, quest'anno, scusate, il 2016, che è l'anno di riferimento del rapporto sul consumo di suolo, abbiamo consumato 3 metri quadri al secondo. Quindi continua inesorabilmente ad aumentare, nonostante la crisi economica. E il futuro non è roseo. Come facciamo ad affermarlo? Il rapporto ipotizza uno scenario al 2050, che è l'anno in cui l'Unione Europea impone agli Stati membri l'azzeramento del consumo di suolo. Ebbene, nel migliore dei casi, quindi ipotizzando un rallentamento del consumo di suolo, ci sarà comunque al 2050 una perdita di ulteriori 1.635 km2. Io non so se ho reso l'idea di quello che stiamo perdendo. Spero di sì, lo farà ancora meglio l'ingegner Munafo che poi vi presenterà i dati del rapporto più nel dettaglio. Lo faranno i nostri ospiti, lo faranno i colleghi del sistema nazionale. Però vi ho voluto dare soltanto un accenno di quello che stiamo perdendo. Non mi dilungo oltre per dare spazio a tutti i partecipanti e cedo subito la parola al dottor Claudio Campobasso, il capo dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA. Grazie, dottoressa Vacciani. Allora, io aggiungo alcuni elementi a quelli già presentati adesso in questa breve introduzione della collega. L'edizione 2017 del rapporto sul consumo del Consiglio d'Italia è la quarta che viene dedicata dal nostro istituto a questo tema ed è il primo rapporto che viene prodotto da quando è nato il Sistema Nazionale per la protezione dell'ambiente, l'SNPA. Questo rapporto ha lo scopo di fornire un quadro aggiornato dei processi di trasformazione del nostro territorio, processi che continuano a causare la perdita di una risorsa fondamentale come appunto il suolo, con tutte le sue funzioni e i relativi servizi ecosistemici. Il nostro rapporto analizza l'evoluzione del consumo del suolo all'interno di un più ampio quadro delle trasformazioni territoriali ai diversi livelli, attraverso indicatori utili a valutare le caratteristiche e le tendenze del consumo del suolo e fornisce nuove valutazioni sull'impatto della crescita della copertura artificiale del suolo, con particolare attenzione alle funzioni naturali perdute o minacciate. Questi dati sono prodotti certamente sotto la responsabilità appunto del Sistema Nazionale per la protezione dell'ambiente che vede l'ISPRA insieme appunto alle agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e anche delle province autonome in un lavoro congiunto di monitoraggio svolto anche utilizzando le migliori informazioni che le nuove tecnologie sono in grado di offrirci. I dati della nuova cartografia prodotta per questo rapporto mostrano come a livello nazionale il consumo del suolo sia passato dal 2,7% valore stimato per gli anni 50 al 7,64% del 2016 dello scorso anno, con un incremento quindi di 4,9 punti percentuali ed una crescita percentuale del 184%, a cui va aggiunto l'ulteriore 0,22% di incremento negli ultimi sei mesi analizzati. Quindi in termini assoluti il consumo del suolo ha superato lo scorso anno il valore di 23.000 km2 del nostro territorio che ormai risultano coperti artificialmente. Ripeto, 23.000 km2. La percentuale italiana di consumo di suolo è quasi il doppio della media europea nonostante le caratteristiche e la fragilità del nostro territorio, che è un territorio per un terzo montano e che ha circa il 15% di superficie ricadente in zone a pericolosità idraulica o da frana. Insomma, un territorio che avrebbe dovuto essere maggiormente tutelato nel passato nonché nel presente. Pur con una velocità ridotta, il consumo del suolo continua quindi a coprire irreversibilmente aree naturali e agricole, con asfalto, cemento, edifici e fabbricati, strade ed altre infrastrutture, insediamenti commerciali, produttivi e di servizio. Le conseguenze delle trasformazioni sul nostro fragile territorio quindi sono evidenti, con l'aumento del rischio idrogeologico, la riduzione della produzione agricola e della capacità di regolare il clima e i processi naturali, l'aumento del degrado del suolo e del paesaggio, la perdita di biodiversità e di tutti quei servizi ecosistemici fondamentali per la nostra esistenza e per il nostro benessere. Ma questo consumo di suolo noi non possiamo più continuare a permettercelo, neanche dal punto di vista strettamente economico, come ci indica anche la Commissione europea, alla luce della perdita consistente di servizi ecosistemici e all'aumento di quei costi nascosti dovuti alla crescente impermeabilizzazione del suolo. I dati purtroppo evidenziano anche l'avanzare di fenomeni quali la diffusione e la dispersione, la decentralizzazione urbana da un lato e la densificazione di aree urbane dall'altro accompagnate da un'intensificazione agricola. Questi processi riguardano soprattutto le aree costiere mediterranee e le aree di pianura, mentre al contempo, soprattutto in aree marginali, si assista all'abbandono delle terre e alla frammentazione delle aree naturali. Anche per tali motivi il rapporto 2017 propone quindi una mappatura del livello di impatto sul territorio e sul paesaggio attraverso una metodologia innovativa che permette di analizzare ogni chilometro quadrato attraverso il grado di frammentazione dovuta alla presenza di aree artificiali e di infrastrutture. La tutela del suolo, del patrimonio ambientale, del paesaggio e il riconoscimento del valore del capitale naturale sono compiti e temi che ci richiama l'Europa e sono ancora più fondamentali per noi alla luce delle particolari condizioni di fragilità e di criticità del nostro Paese e rispetto ai quali forniamo il nostro contributo di conoscenza. Questo rapporto si arricchisce anche di autorevoli contributi e soggetti esterni all'SNPA, sia dal mondo istituzionale sia della ricerca, che approfitto per ringraziare qui per il loro fondamentale supporto che ha sicuramente permesso di ampliare al meglio la conoscenza disponibile su questo tema e di dare conto dei risultati ottenuti da importanti progetti europei in questo campo. Il rapporto, l'equivalenza è ormai riconosciuta come base conoscitiva trasversale alle diverse politiche e attività sul territorio, costituisce quindi un fondamentale supporto del sistema per lo sviluppo del quadro normativo in materia di monitoraggio e di valutazione delle trasformazioni del territorio e dell'ambiente e al contempo per fornire ai responsabili delle decisioni a livello locale informazioni specifiche per la pianificazione urbanistica e territoriale. Grazie. Grazie Claudio. Quindi appare evidente che quando parliamo di consumo di suolo non parliamo soltanto di cementificazione né di perdita di terreno agricolo, di terreni agricoli, ma parliamo di molto, molto di più, di qualcosa di molto più caro. Ora passerei agli interventi istituzionali. Approfitto per ringraziare la Camera dei Deputati per l'ospitalità che ci ha voluto dedicare questa mattina e do la parola subito alla senatrice Laura Poppato della Commissione Ambiente del Senato. Prego senatrice. Grazie a Ispra, grazie a tutti voi per la presenza oggi. Grazie anche per averci fornito uno strumento, questa relazione di quest'anno particolarmente corposa, devo dire, un lavoro particolarmente puntuale, oltre a quello generale a cui eravamo abituati, che dovrebbe fornire agli attori istituzionali quali noi siamo la possibilità di incidere maggiormente e di portare a casa quel disegno di legge sul consumo di suolo di cui si parla da troppi anni, qui tanto a me o Mario Catania, che ne è stato il primo coraggioso fautore istituzionale importante di questo Paese. E devo dire, alla luce anche delle evidenze climatiche che costringono l'intero Paese Italia ad accelerare rispetto a tematiche come quelle appunto dell'attenzione verso l'aria e verso l'acqua, che la relazione strettissima che anche questa relazione mette in campo tra la qualità del suolo, tra il consumo del suolo, meglio, e gli aspetti relativi ai cambiamenti climatici, obbliga, se vogliamo, ad un'accelerazione in senso positivo, in senso dell'attenzione necessaria al tema della riduzione fino alla cancellazione del consumo di suolo. Perché è pur vero, come si è detto, che noi abbiamo un obiettivo, l'obiettivo 2050, ma abbiamo anche un altro obiettivo intermedio che è il 2030 e un'agenda che prende il nome dal settimo programma europeo di azione ambientale denominato Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta, così ci mette subito in evidenza come di quei limiti dobbiamo parlare, da quei limiti dobbiamo partire, perché diventi effettivamente quel programma, a seguito di quella decisione del 2014 europea, che diventa quel programma di sostenibilità ambientale e di sviluppo consapevole, quindi, come dire, limitato, di cui abbiamo l'onere e l'onore di fare la parte normativa legislativa in Italia. Quindi il Governo sta lavorando proprio anche su questo tema, questo tema della sostenibilità ambientale e dei cambiamenti climatici, naturalmente con i vari accordi internazionali che ci sono stati, ci impone l'obbligo di un monitoraggio, di una verifica puntuale delle situazioni. Tutto questo ci porta a pensare che sia giunto davvero il momento, per non dire che il tempo è già passato, per riuscire a fare delle analisi che permettano consecutivamente, con una certa coerenza immediata, diciamo, di attivare le politiche giuste. Ora, andando nel merito delle cose da fare e delle cose già fatte, partiamo dal presupposto, per coloro che non lo sanno, di dire che un disegno di legge è stato approvato alla Camera dei Deputati ed è arrivato al Senato della Repubblica. Io ne sono relatrice attualmente insieme con il collega Dallator, che è un collega che si occupa principalmente della parte relativa all'agricoltura, per cui questa parte specifica non la farò, ma per quanto riguarda il tema, diciamo, più prettamente di carattere urbanistico delle città, della sostenibilità ambientale all'interno delle città e tutto ciò che questo implica dal punto di vista normativo e legislativo, credo che si possa recuperare questo rapporto utilmente per andare ad individuare ulteriori elementi da inserire nel disegno di legge che già è stato approvato alla Camera e che dovremmo modificare, emendare, unificare rispetto anche ai disegni di legge che sono già presenti al Senato. Innanzitutto, un dato di fatto. Personalmente mi ha stupito, ma fino a un certo punto, leggendo con attenzione questo rapporto, si accennava ora al 7,6% del suolo consumato in Italia, ma quello che impressiona è vedere che le tre regioni, Lombardia, Veneto e Campania, le prime due, Lombardia e Veneto, con oltre il 12% di suolo consumato, la Campania oltre il 10%, quindi le tre regioni italiane che hanno, diciamo, manifestamente una percentuale di maggior consumo di suolo con tutto quello che questo implica. Ebbene, sono anche le regioni, incredibilmente, che nel corso di questi ultimi anni e in particolare nell'ultimo anno, hanno continuato la loro crescita più della media nazionale. Hanno continuato a crescere e a svilupparsi in area pericolosità sismica più degli altri. Hanno continuato a svilupparsi laddove c'era una maggiore fragilità idrogeologica più degli altri. Per esempio, la provincia da cui io provengo, la provincia di Treviso, è quella maglia nera in Italia con 186 ettari consumati nel suolo 2016. E, guarda caso, queste tre regioni sono anche le prime in Italia nel rapporto relativo alle catastrofi naturali che si sono abbattute nel corso di questi decenni. anni. Quindi hanno avuto il maggiore onere dal punto di vista degli eventi eccezionali che hanno colpito il nostro territorio, ma non dovremmo più chiamarli così. Io sono Reduce, sono arrivata ieri sera, nella mia zona si è sviluppata l'ennesima grandinata, trombe d'aria e quant'altro. Quindi le scelte non sono neanche più scelte, sono scelte obbligate. E la relazione stretta, vi dicevo, che c'è tra, che poi l'ISPRA ce l'ha sempre ricordata, tra suolo e clima, obbliga ad interventi celeri. E adesso unire il celere con il positivo non sarà facile, ma dobbiamo farcele. Come possiamo intervenire dal punto di vista normativo e legislativo? Innanzitutto con una definizione più precisa e puntuale rispetto a che cosa si intende suolo e consumo di suolo. Anche qui lasciatemi fare un inciso. Noi rischiamo, una cosa davvero demenziale, lasciatemelo dire, di trovarci con 20 regioni, molte regioni italiane stanno in questo momento legiferando sul consumo di suolo. Noi rischiamo di trovarci con 20 regioni che oltre ad avere ovviamente, io dico, perché questo ha previsto l'autonomia, diciamo, e il modello federalistico che abbiamo fino a ora approvato. Sostanzialmente chi ha un'assenza di pianificazione, chi ha una pianificazione più stretta, qualche regione è riuscita a fare i piani paesaggistici, molte altre non ce le hanno, ma oltre a questo ci ritroveremo nella condizione davvero incredibile, quasi pazzesca, di dover fare un monitoraggio sul consumo di suolo annuale che l'Italia deve fare rispetto al resto dei paesi europei e non riuscire a leggere in ugual misura quel consumo di suolo. Perché le 20 regioni italiane stanno applicando, stanno approvando norme disomogenei nelle misurazioni. Un esempio pratico, faccio sempre della mia ragione, visto che è una delle maglie nere di questo paese, da questo punto di vista, ebbene è stato riportato anche in una delle ultime pagine del testo che ci è stato fornito, l'attuale norma sul consumo di suolo, la legge che è stata appena approvata, non comprende il suolo consumato nei centri urbani, il che significa che noi non conteggeremo il 54% dei cambiamenti avvenuti tra il 2012 e il 2016. Non stiamo parlando del 2, del 3, del 5% di differenza, stiamo parlando di oltre la metà del suolo consumato che non rientrerebbe tra la fattispecie di quello monitorato come consumato. Quindi le misurazioni sono un elemento fondamentale, perché se non parliamo la stessa lingua, difficilmente riusciremo a capirci, difficilmente riusciremo ad approvare delle norme che stiano in piedi, che ci permettano effettivamente di avere piena comprensione di ciò che accade, anche in relazione al fatto che dobbiamo intervenire, se dobbiamo intervenire, come dobbiamo intervenire. Diciamo, non ho l'ambizione neanche la possibilità, abbiamo pochi minuti a testa ed è giusto così, ma ci sono molti elementi che mi portano a credere che noi rispetto alla legge che dobbiamo andare, dovremmo insomma, riuscire ad approvare, io penso, se ne parlava poco fa con Mario Catania, entrambi siamo molto preoccupati, perché vi devo confessare che siamo andati avanti con il lavoro fino a un certo punto, poi c'è stata area di elezioni, come è noto, e si è interrotto tutto, perché è evidente che un lavoro di questo genere richiede qualche mese, come dire, di possibilità lavorativa, insomma, per riuscire a portare a casa il risultato. Avessimo avuto le elezioni a settembre, avremmo avuto l'ennesima legislatura con un nulla di fatto, ancora, rispetto a un tema così coccente, fondamentale per il Paese. Non è che stiamo parlando di una cosa così, no? Che possiamo anche risolvere altrimenti. Allora, vi dicevo, adesso abbiamo ripreso il lavoro, c'è una notizia molto bella, molto utile. Noi abbiamo chiesto fortemente, io e il collega da Mario Dallator, di avere ad un tavolo le regioni, perché voi capite che questa promiscuità di responsabilità e di onere in relazione allo Stato centrale e alle regioni mette a rischio qualsiasi impianto legislativo, evidentemente, perché quando io leggo in audizione, quando ricevo in audizione il documento delle regioni italiane, estremamente critico, in alcuni aspetti, devo dire, condivisibile anche, per cui di questa cosa, insomma, mi preoccupo fino a un certo punto, mi spavento fino a un certo punto, penso che poi nel dialogo si riesca, se c'è buona fede, insomma, e se si coglie l'estrema urgenza dell'intervento su questo settore, io penso che ci siano anche delle possibilità reali di portare a casa un risultato congiunto, comune o comunque approvabile, con la coscienza, se non altro, che il lavoro è stato fatto con la volontà non di mettere i piedi nel piatto di qualcuno, non di togliere le autonomie a qualcuno, ma di regolare insieme una materia estremamente delicata e complessa come questa. Quindi mercoledì avremo il primo tavolo con le regioni che finalmente si sono fatte vive dopo un mese e mezzo di solleciti e quindi, insomma, speriamo che da questo punto di vista ne derivi anche un primo grosso passo avanti rispetto a quello che vorremmo fare. Che cosa vorremmo fare? Si diceva che questo rapporto ci mette nelle mani degli strumenti molto buoni, devo dirlo, è utilissimo e io ringrazierò sempre ISPRA, non solo per la collaborazione che abbiamo sempre avuto, ma perché questi non sono rapporti sterili, questi sono rapporti propedeutici a lavorare bene. Il tema, l'ho avuto lì, li elenco quasi perché non c'è modo di approfondirli tutti, però tema primario, densificazione. Noi dobbiamo considerare che il consumo di suolo, la quantità di verde nelle città è un elemento di cui dobbiamo occuparci nella legge sul consumo di suolo. Il tessuto interconnettivo, interstiziale all'interno dell'urbano è di straordinario valore ambientale e sociale. C'è una valutazione che è stata fatta da un ONG, la Nature Conservancy, in un report dal titolo Planting Healthy Air, che ha valutato sostanzialmente gli effetti delle alberature, quindi della quantità di verde sulla qualità dell'aria di 245 città nel mondo. Ebbene, le previsioni di questa ONG che si occupa di ambiente sono che le ondate di calore oggi uccidono 12.000 persone l'anno in tutto il mondo, all'interno di un bilancio di oltre 3 milioni che vengono uccise nell'ambito dell'inquinamento atmosferico, ma comunque la quantità è importante. Quello che vi voglio dire è che la previsione al 2050, con questa crescita appunto dello sprolo urbano e con questa crescita della densità urbana, porterebbe questo valore di 12.000 persone a 250.000 persone uccise dalle ondate di calore all'interno delle città. Questo per far capire l'importanza enorme che ha la salvaguardia della quantità del verde all'interno dei centri urbani. Ma c'è un altro tema importante che noi vorremmo inserire in questo disegno di legge, e cioè la possibilità, la necessità meglio, di considerare l'elemento urbanistico, l'espansione urbana che vi è stata fino a oggi, obiettivamente da limitare con una creazione di una cintura a verde per le città e i centri ubitati, che sia nella condizione di separare l'edilizia tipica delle città rispetto alla campagna e ricreare quel valore ecologico ambientale ricreativo, coerente anche alla salvaguardia, allo si è detto, degli ecosistemi naturali, che possa ridurre e contribuire a ridurre le isole di calore, favorendo la raccolta di acque piovane e quant'altro. Quindi cinture urbane, riduzione dello sprollo urbano e poi attenzione alla densificazione edilizia nell'ambito delle città. Naturalmente con la previsione dei corridoi ecologici all'interno delle città, perché non ci si dimentichi che all'interno delle città non ci vivono solo gli umani, anche se dipende ovviamente dalla quantità, ma insomma lo vediamo persino nelle metropoli, gli animali cominciano a rappresentarsi sempre più frequentemente accanto a noi. Quindi il tema dei corridoi ecologici all'interno delle città è un tema di particolare valore, non solo diciamo naturale e storico, ma anche faunistico. come procedere? Quando la valutazione a oggi ci dice che abbiamo 3 milioni e mezzo circa di edifici non occupati, almeno il 3% di fabbricati industriali risultano totalmente privi di una possibilità di utilizzo. Ce ne sono altri 3 milioni e mezzo di edifici che in realtà sono le seconde e le terze case, ma per un attimo lasciamole da parte. È evidente che una banca dati relativa a ogni singolo comune è necessaria perché quel comune possa effettivamente procedere in maniera seria ad una valutazione della pianificazione necessaria per il futuro. Quindi per riuscire effettivamente a far lavorare i comuni su questa necessità di monitorare l'esistente, prevedere quindi il censimento e una banca dati degli edifici non occupati, degradati. Insieme con l'incentivazione alla demolizione e alla ricostruzione, che peraltro sono già previste dall'attuale disegno di legge che è arrivato al Senato, io credo vada fatto uno scatto di regni da parte della politica e qui ovviamente dipenderà da come riusciamo con i ministeri competenti a raggiungere questo obiettivo. E cioè, altra richiesta che sicuramente le regioni ci faranno, sarà quella di non dare esclusivamente indicazioni, di non dare esclusivamente direttive, ma di mettere in condizioni i comuni, le regioni, di poterle attuare quelle direttive e quelle indicazioni. E quindi metterci qualcosa nel piatto perché quello possa essere attuato senza alibi di alcun genere che lo blocchino. Anche le incentivazioni alle demolizioni e ricostruzioni si possono, io credo anche nel riferimento all'eco bonus che abbiamo già approvato e a quanto già approvato in relazione per esempio al tema delle ristrutturazioni in funzione dell'efficientamento energetico e della parte che riguarda l'antisismica, di prevedere per esempio anche qui una incentivazione nazionale alle demolizioni e ricostruzioni. Nonché alla rinaturalizzazione, ultima parte non facile da individuare, ma effettivamente se vogliamo, soprattutto nelle realtà che hanno avuto un maggior consumo di suolo. Recuperare anche spazi che erano stati utilizzati malamente andando a costruirvi con un modello, ecco un'altra parte che vi voglio segnalare, che mi pare particolarmente interessante da parte del lavoro che ha fatto Ispra ed è, ne faremo appunto oggetto di questa analisi anche dal punto di vista legislativo, è il tema per esempio delle superfici disturbate, molto bella questa valutazione, perché la frammentazione del territorio e quindi la quantità, io che provengo da quell'area, voi sapete che è un'area che vive il disastro della Pedemontana Veneta come una delle peggiori situazioni ambientali che si siano mai vissute, ebbene il tema evidente nel momento in cui si va a costruire una strada con quelle caratteristiche come è stata realizzata, come è in corso di realizzazione, delle superfici disturbate e cioè di quel territorio devastato da un insieme di infrastrutture disordinate e da modelli urbanistici poco coordinati e poco coerenti, ebbene l'unitarietà del tessuto urbano, la qualità dei servizi che vengono prestati ai cittadini, non solo quelli ecosistemici, hanno un'inversione, cioè non si ha più tanti più servizi, tante più infrastrutture, tanto meglio si vive, tanta più efficienza, tanta più qualità, ma si ha il contrario, cioè c'è un'inversione, un trade off, ovvero io più costruisco infrastrutture caotiche, una sovrapposta all'altra, non coordinate, non analizzate rispetto agli obiettivi della mobilità urbana e della mobilità delle merci, più io creo inefficienza, cioè traduco questa cosa in un rallentamento e in una pessima qualità della vita. Proprio anche per questo sarebbe opportuno che il nostro governo, il nostro Parlamento riuscisse a finanziare quella rinaturalizzazione che per esempio in Svizzera e in Francia, magari limitatamente all'aspetto relativo ai fiumi, cioè alla rinaturalizzazione degli alvei e della parte attinente ai corsi d'acqua, diciamo quella proprio periferica ai corsi d'acqua, si sta già facendo. Sarebbe importante per dare anche il segnale che il tema del consumo di suolo non è semplicemente un correre ai ripari, ma è un voler in qualche modo restituire alle generazioni future ciò di cui abbiamo già abusato, perché nel momento in cui ci ritroviamo, come ci ritroviamo effettivamente con un Paese che ha sì una percentuale di consumo di suolo che non è in fondo superiore mediamente alla Danimarca piuttosto che alla Germania, ma guardate l'orografia del nostro Paese ci dice che in realtà la percentuale è enormemente superiore. Non solo, ma la quantità di consumo di suolo ha anche portato a quel modello di desertificazione, di degrado dei suoli che non si considera ancora pienamente quando si considera consumo di suolo, ma che ha un impatto rispetto alla qualità del vivere e alla qualità dell'aria. Per cui insomma il lavoro da fare è complesso, il tempo è poco, magari fatemi gli auguri, chissà che non ce la facciamo. Grazie senatrice Puppato, grazie per averci anche ricordato che quando parliamo di suolo non parliamo più di scelte, ma parliamo di obblighi e grazie anche per l'impegno istituzionale che tutti i rappresentanti delle istituzioni seduti a questo tavolo a vario titolo portano avanti. Per ciò che riguarda la necessità di armonizzare i criteri di misurazione, diciamo questo è uno dei principi ispiratori della legge 132 di istituzione del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, cioè proprio di creare un'omogenizzazione, un'armonizzazione dei criteri di monitoraggio e di misurazione. Ecco, mi auguro che questo stesso principio che ha ispirato noi, diciamo, esperti di ricerca finalizzata, possa ispirare anche le amministrazioni locali. Do la parola ora al Presidente della Commissione di inchiesta sulla contraffazione della Camera dei Deputati, il Presidente Mario Catania. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Naturalmente non sono qui in veste di Presidente della Commissione sulla contraffazione, ma piuttosto come persona che da molti anni segue questo tema e su questo comincio con un ringraziamento a Ispra perché già moltissimi anni fa come Direttore Generale, poi successivamente come Ministro dell'Agricoltura, ho sempre trovato in Ispra il punto di riferimento di gran lunga più affidabile per affrontare queste tematiche con consapevolezza. Io non voglio anticipare ovviamente i contenuti della relazione di Munafo e poi anche degli altri relatori che interverranno dopo, però voglio fare alcune considerazioni che in realtà vanno già nel merito e in parte sono state anche toccate dalla collega Puppato Pocanzi. La prima che vi faccio è una considerazione molto semplice, molto banale. I dati che noi abbiamo sul consumo di suolo in Italia in realtà, se letti con un minimo di attenzione, sono molto più allarmanti di quanto già di per sé non appaiano. Perché? In primis perché il dato in relazione all'orografia del Paese, lo ricordava Puppato Pocanzi, è un dato che va letto con molta attenzione. Se noi facciamo un ricalcolo al netto delle aree montane e delle aree lacustri del nostro territorio, il dato non è più 7,5, cresce sensibilmente e si avvicina sostanzialmente alle punte massime europee che, se ricordo bene, sono quelle che si registrano nei Paesi Bassi. Quindi questo già la dice lunga, laddove però nei Paesi Bassi c'è una demografia, un numero per abitanti molto più elevato che giustificherebbe eventualmente molto di più un consumo di suolo su questi livelli. Quindi primo dato macroscopico, attenzione, non è solo 7,5, in realtà è molto di più. Secondo dato che è ancora più importante, se vogliamo, anche questo Puppato lo accennava, poi sicuramente Munafo ve ne parlerà, noi abbiamo un consumo del suolo che è poi particolarmente insidioso nelle modalità, nel senso che c'è una dispersione elevatissima, il tasso di sprawling che c'è in termini di consumo del suolo è molto elevato e questo determina dei contraccolpi in termini ambientali, oltre che sull'economia agricola, infinitamente superiori a quello che è il dato apparente. Perché se voi, la situazione in pianura padana è evidente, percepibile in modo, come dire, senza grandi bisogni di elaborazioni e di dati a riguardo. Ma se voi sparpagliate una serie di interventi di impermeabilizzazione, sia essi di adilizia residenziale, sia essi di infrastrutture collegate sul territorio a polvere, a pioggia, è chiaro che provocate un effetto sull'ambiente e sull'economia agricola infinitamente superiore a quello che è il dato apparente di ciò che è impermeabilizzato. Perché spezzettare le aree che hanno una unità ecoambientale e le aree agricole con una serie di interventi infrastrutturati collegati alla polverizzazione di abitazioni rende il risultato finale molto più negativo di quanto non sarebbe stato se la medesima quantità di impermeabilizzazione fosse stata razionalmente concentrata in un modo organico e giustificato e razionale. Quindi due cose su cui sicuramente poi Munafoci tornerà, quindi, ma che sono importantissime per capire come la gravità va bene al di là dell'apparenza dei numeri. Questo ci porta anche ad alcune considerazioni sul come siamo arrivati a tutto questo, avendo un occhio in primis al residenziale, cioè a come si è snodato negli ultimi 70 anni la politica urbanistico-residenziale in questo Paese e poi anche come si è snodato l'intervento sulle infrastrutture a uso industriale o altro. Ebbene, noi abbiamo avuto un modello di crescita a riguardo che è particolarmente perverso in questo Paese, perché c'è stata una sommatoria di spinte verso il risultato che ora abbiamo, cioè quello della dispersione, della polverizzazione di interventi residenziali sul territorio, che vanno dall'interesse privato, in particolare di tutti coloro che erano titolari di un diritto di proprietà su appezzamenti di qualsivoglia della dimensione. In più con un interesse di tutta la filiera delle costruzioni, in più con una compiacenza del sistema politico locale su quasi tutto il territorio, che ha portato a una sostanziale assenza di una prospettiva di regolamentazione e di pianificazione urbanistica e a un laissez-faire che poi in realtà si è snodato in termini di abusivismo dove la situazione era più sbracata, ma poi anche di fatto di non abusivismo dove non lo era, con risultati in fondo non molto dissimili e questo la dice lunga. Cioè quello che è successo nelle zone dove c'è stato proprio il far west in termini di abusivismo non è poi molto diverso da quello che è successo dove c'è stata comunque la copertura di un intervento in termini di legalità. Cioè il risultato è stato il medesimo, una miriade di costruzioni venute su senza nessuna logica di pianificazione con tutte le ricadute che dicevamo prima invece di avere un risultato in cui abbiamo prodotto magari due palazzine di quattro piani, abbiamo fatto 150 unità abitative sovradimensionate e sparpagliate su un territorio molto più ampio, anch'esse poi collegate più o meno correttamente con tutta una serie di infrastrutture relative, quindi con costi ambientali, con impatto sull'agricoltura, con impatto anche in termini poi di sostenibilità dei servizi perché tutto questo non è che poi finisce lì, comporta poi tutto un problema di gestibilità di servizi che vanno portati a macchia d'olio sul territorio. Oh, badate bene che tutto questo non è che è stato fatto da persone o da soggetti, intendo coloro che erano destinati ad abitare in queste situazioni collegati all'attività agricola. magari fosse così, cioè il 95% di queste situazioni riguarda persone che poi non fanno agricoltura, che fanno magari pendolarismo con il centro abitato di riferimento, con anche qui tutta una serie di altri impatti di carattere ambientale, di gestione della viabilità, eccetera, eccetera, quindi abbiamo a che fare con un modello, chiamiamolo così, un modello, insomma con un sistema di crescita urbanistico residenziale particolarmente perverso, ancor più perverso, anche questo Puppato lo ricordava un attimo fa, perché poi in realtà era completamente dissociato dalle esigenze in termini di abitabilità da parte della popolazione, come è dimostrato dal fatto che noi abbiamo oggi una cubatura costruita, inutilizzata, e non parliamo delle case delle vacanze, parliamo delle situazioni residenziali nei centri abitati normali, tra virgolette, una situazione residenziale di sfitto, di vuoto, che è elevatissima. Quindi c'è tutto un meccanismo di sviluppo perverso che in 70 anni produce un risultato come quello che adesso abbiamo davanti. Se andiamo a vedere quello che è successo per quanto riguarda la politica delle infrastrutture, delle strutture, infrastrutture a uso industriale, terziario, eccetera, la situazione non cambia di molto. Noi a partire dagli anni 60 abbiamo tappezzato il territorio, in particolare sempre ovviamente delle zone di pianura, quelle più sensibili, tappezzato di capannoni e altri impianti industriali che mediamente hanno avuto una vita di 15, 20, 25 anni, non di più e rispetto ai quali poi c'è stata la totale assenza di una politica sul territorio tendente al recupero, al riciclo di queste infrastrutture e di queste strutture. Si è preferito comunque, laddove c'erano le esigenze e una spinta da parte delle imprese, costruire altri capannoni, anche dove esistevano situazioni potenzialmente recuperabili. E questo ci porta anche a un'altra considerazione, ripeto, sull'atteggiamento delle amministrazioni locali in questa vicenda. Perché le amministrazioni locali non solo assecondano quello sviluppo del residenziale di cui parlavamo prima, lo assecondano o lasciandolo procedere in termini di abusivismo o addirittura accompagnandolo con una copertura formale. Ma sia per il residenziale che per il no residenziale mirano anche poi a alimentare ulteriormente il fenomeno chiedendo a Roma, alla politica nazionale che lo farà, cosa che è avvenuta negli ultimi 15 anni, di poter usare gli oneri di urbanizzazione per coprire il bilancio corrente, le spese correnti dei bilanci dei comuni. Cioè i comuni sostanzialmente chiedono e ottengono che le spese, gli oneri di urbanizzazione che le imprese devono versare quando costruiscono del nuovo, quando consumano suolo, siano utilizzati non per le infrastrutture di urbanizzazione ma per coprire la spesa corrente o comunque altre spese. Che provoca ovviamente, di tutta evidenza, un'ulteriore spinta dei comuni stessi a stimolare ancora costruzioni. Perché in questo modo si incassano oneri di urbanizzazione che vanno a fare bilancio. Questo viene avallato a Roma e c'è una sequenza di norme reiterate e prorogate nel tempo, nell'arco degli ultimi 15 anni, attraverso maggioranze, mi duole dirlo, sia di centrodestra che di centrosinistra e che teoricamente dovrebbe andare a cessare in virtù di una norma che non mi ricordo dove stava nell'ultima legge di stabilità, mi sembra, dovrebbe teoricamente cessare alla fine del 18, se ricordo bene, e in questo c'è una resipiscenza che va a onore dell'attuale maggioranza, anche se io finché non la vedo cessare questa normativa non ci credo, come San Tommaso voglio effettivamente vedere se poi alla fine non sbucherà l'ennesima prologa. Dietro tutto questo, alla fine c'è una morale ancora più profonda e la morale è quella che noi abbiamo avuto classi di governo in questo Paese, classi dirigenti, nessuna esclusa, qui non c'è nessuna differenziazione tra centrodestra, centrosinistra e mi dispiace per l'amico De Rosa che parlerà dopo, nemmeno 5 Stelle, nel senso che il problema riguarda tutti, nessuno escluso, qui non c'è qualcuno che è più bravo, ma c'è stata e c'è una cultura diffusa che vede in realtà nella spinta a costruire, nella spinta a un modello di sviluppo di questo tipo, un bonus, un valore positivo perché in questo modo gira il mondo delle costruzioni, gira il mondo della produzione di cemento, gira tutta un'attività che si continua a considerare fondamentale in termini di PIL, di occupazione, eccetera, eccetera, eccetera. Visione questa miope perché in realtà tutto ciò crea valore magari nell'immediato ma lo distrugge nel medio e nel lungo periodo ineluttabilmente, ma è una visione che tenacemente tende a sopravvivere e che fa sì che alla Camera si impieghino tre anni di questa legislatura per riuscire a votare il testo che è stato votato, che peraltro perfettibile, adesso io non entro nel merito di questo che ci porterebbe troppo lontano, ma non è un testo secondo me perfetto anzi, però è comunque un testo che muoveva qualcosa, però ci vogliono tre anni per approvarlo. Io adesso faccio gli auguri alla collega Puppato, relatrice al Senato, sperando che facciano uno sprint in questo finale di legislatura, ma resto comunque pessimista perché è chiaro che poi il testo modificato dal Senato dovrà tornare alla Camera, siamo a giugno, insomma la legislatura per quanto sia va a chiudersi l'inverno prossimo, su quello non ci saranno dubbi e quindi non è che la vedo tanto facile. Quindi siamo ancora in presenza, io credo, di un mondo molto forte, trasversale che attraversa la politica, il sistema delle imprese, che attraversa tutto un mondo delle classi dirigenti in questo Paese, che continua a rimanere legato all'idea che in questo modo si è vero, magari si fa un certo danno ambientale, ma però poi che sarà mai tutto questo perché è molto più importante che si faccia PIL, che si muova il sistema, che si continui a costruire, eccetera, eccetera, eccetera. Visione, ripeto, miope, è assolutamente deleteria per noi e per le generazioni che verranno dopo. Vado a fare una conclusione su questo mio intervento, spero non troppo pessimista, o almeno che non lo percepiate come tale, dicendo che a mio avviso, ma questo non vuole in alcun modo condizionare la collega Pupato, nella quale ho piena fiducia, né il lavoro ovviamente del Senato, a posto che mai possa essere condizionato. Io credo che in questo Paese a questo punto servirebbe un intervento normativo molto brusco, lo uso non a caso questo aggettivo, nel senso che andrebbe brutalmente stoppato il consumo di suolo di qualsivoglia tipologia e senza lasciare discrezionalità accaduta alle regioni e agli antivocali, facendo un intervento insieme altrettanto forte, eventualmente anche questo altrettanto brusco, in termini di riorientamento del sistema edilizio sulla rigenerazione urbana, perché nessuno vuole ammazzare la filiera del cemento e delle costruzioni, ma anche perché è nell'interesse pubblico che questo avvenga, perché dato che oggi non abbiamo affrontato, poi noi abbiamo delle periferie urbane largamente degradate, dove un forte impatto di rigenerazione e di riqualificazione avrebbe una valenza economica e sociale fortissima. Ripeto, però, questa è un'opinione del tutto personale, secondo me per raggiungere questi due risultati, cioè fermare da un lato il consumo del suolo e dall'altro riorientare il settore verso la rigenerazione, ci vuole un intervento normativo pesante, magari anche rozzo se vogliamo, dove non si dia spazio a scelte sul territorio, scusami Cuppato, io la penso così, nel senso che le classi dirigenti sul territorio non hanno dimostrato di essere in grado di gestire in termini positivi questa dinamica, anche il delirio di disposizioni che tu ricordavi che vengono attualmente sparpagliate dalle regioni in materia la dice lunga, ma poi c'è tutto il problema della pianificazione urbanistica da parte dei comuni, quindi un intervento tranchant a livello nazionale che blocchi il consumo del suolo dappertutto e comunque anche a costo di essere in alcuni casi rozzo e brutale e un intervento altrettanto forte in termini di incentivazione fiscale, bisogna muovere tutte le leve a riguardo per far sì che un imprenditore non abbia dubbi nel senso che tentare di fare, seguire le strade vecchie è assolutamente impossibile, mentre invece riciclarsi e ripensarsi come imprenditore in termini di rigenerazione urbana è una scelta che può essere pagante. Grazie. Grazie al Presidente Catania. Io prima commentando i nostri dati ho usato il verbo spaventare, ma forse dopo il suo intervento sarebbe più onesto dire terrorizzare. Questi dati ci dovrebbero terrorizzare. Mi sembra chiaro e confermato da questi primi due interventi che per quanto perfettibile, per quanto aggiustabile, sia necessario che l'iter della legge sul consumo di suolo giunga ad una rapida conclusione, oltre all'intervento brusco che condivido e che ha proposto il Presidente Catania. Do la ora all'Onorevole Massimo De Rosa della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati. Prego Onorevole. Grazie, grazie dell'invito. Devo ringraziare il Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente, l'ISPRO e il Dottor Munafo appunto per questo lavoro che ogni anno ci dà la possibilità di avere dei dati su cui discutere. Cerco di non ripetere alcuni passaggi, alcune informazioni che sono già state date. Faccio solo qualche considerazione sul fatto che appunto in questi giorni si parla tanto della siccità, di problemi legati al clima. Vedo che c'è ancora in Italia molta ignoranza e molta retratezza sul tema, proprio anche a livello mediatico. Se ne parla poco e se ne parla male e se ne parla come qualcosa di emergenziale da affrontare poi quando succede sostanzialmente. Quindi improvvisamente scopriamo che ci saranno temperature altissime, problemi di siccità, quando i modelli matematici, enti di ricerca ce lo dicono da anni, quale sarà l'evoluzione del clima se non cambiamo le nostre abitudini. E il consumo di suolo rientra sostanzialmente in uno dei parametri fondamentali per limitare i cambiamenti climatici e agire con mitigazione e adattamento a quello che ci sta venendo incontro come un treno a cui noi ci prostriamo tranquillamente senza spostarci, senza cercare di schivarlo. Allora io volevo dare alcuni dati di fatto che sono sostanzialmente vengono fuori dallo studio ma anche gli anni scorsi erano già stati sostanzialmente messi in evidenza. Noi quando perdiamo suolo, perdiamo dei servizi ecosistemici che sono patrimonio di tutti. Quindi perdiamo delle funzioni, dei servizi che sono dati al singolo cittadino. Quindi ogni cittadino quando andiamo a valutare una nuova costruzione, una nuova edificazione non possiamo più valutare solamente il guadagno immediato del comune, quindi gli oneri di urbanizzazione, il guadagno immediato del privato che sono appunto la vendita dell'edificio o comunque la vendita edilizia, ma dobbiamo andare a considerare quanto ha perso la società da quella operazione immobiliare e quindi adesso possiamo iniziare a farlo. Abbiamo una bozza iniziale perché anche i parametri che sono stati calcolati sono su alcuni servizi ecosistemici, ce ne sono molti di più di servizi ecosistemici. Se noi internalizziamo questi costi allora ci accorgiamo di quanto veramente pesa sulla società l'edificazione di nuovi fabbricati non necessari. Secondo dato di fatto, appunto la non necessità. Abbiamo edifici a profusione, non abbiamo necessità, non abbiamo questa crescita di popolazione, neanche con l'immigrazione riusciamo a riempire tutti gli edifici che abbiamo vuoti e allora perché stiamo costruendo non ha più senso e allora sono d'accordissimo, anzi la nostra proposta andava in quel senso, era stop al consumo di suolo oggi, oggi. E poi andiamo a vedere le necessità, andiamo a vedere di recuperare, andiamo a vedere di rigenerare le aree che sono state abbandonate dismesse, perché abbiamo poi tutte le aree da bonificare, insomma sono tutti settori dove possiamo agire ma ve ne parlo dopo. Lotta ai cambiamenti climatici, continuiamo a firmare protocolli ma poi sostanzialmente è più incentivata la ricerca di idrocarburi che disincentivata il consumo di suolo. Dobbiamo mettere un po' in pace il cervello con quello che facciamo a livello internazionale e diciamo a livello internazionale, le nostre azioni stanno andando in direzione opposta, quindi operazioni di mitigazione e adattamento, abbiamo già anche leggi che ci consentono di andare in questa direzione, non dobbiamo fare granché, dobbiamo solo dire alle regioni, agli enti locali che devono attuarle, perché se noi facciamo leggi e diciamo che poi non c'è nessun obbligo, sostanzialmente non succede niente se non vengono attuate, queste leggi sono bei principi, ci facciamo dei gran bei convegni ma non servono niente per il paese, l'esempio di una di queste è la legge 10 2013 che parla già di tetti verdi, parla già di recinzione a verde, sono tutte operazioni, alberature in città, tutte operazioni che servono per adattare e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici sulle nostre città. Allora mettiamoci in testa che i cambiamenti climatici avverranno perché non riusciremo forse a limitarli ma non a evitarli e che più noi facciamo finta come uno struzzo di nascondere la testa sotto la sabbia, facciamo finta di non vederli fino all'ultimo e agiamo solo in emergenza, più noi pagheremo un domani i costi di questi cambiamenti e sono costi elevatissimi perché non abbiamo mai visto un cambiamento così repentino del nostro clima a livello mondiale e quindi non sappiamo neanche se gli scenari che stiamo valutando sono abbastanza catastrofici per prevedere questi cambiamenti. Le soluzioni, soluzioni appunto pianificazione, ne è già stato accennato, dobbiamo imporre la pianificazione ma imporla nel senso corretto, la pianificazione per cosa si fa? Si fa per fare cassa per il comune o si fa per la società? Ricominciamo a mettere al centro e mettiamolo magari in legge, visto che c'è nella nostra Costituzione ma non viene considerato mai, mettiamolo per legge che la priorità è all'interesse pubblico e non al privato e che c'è una priorità della pianificazione nell'interesse pubblico e che se anche ho dato un permesso a costruire ma se non è stato ancora iniziato il cantiere, se non ci sono stati già impegni finanziari posso ripensarci perché magari il mio piano di gestione del territorio degli anni 70 non è più attuale e allora posso tornare sulle mie decisioni come ente pubblico o devo solo immaginarmi che mi facciano causa a tutti i privati? Mettiamolo per legge, troviamo, è su questi punti che dobbiamo dibattere a livello parlamentare, non far troppa filosofia perché poi ci blocchiamo su troppi cavilli, dobbiamo parlare della fase transitoria, dire si stoppa il consumo di suolo, cosa facciamo con chi ha già acquisito sostanzialmente dei diritti e soprattutto questi diritti li riteniamo acquisiti, li riteniamo dei diritti o sono semplicemente delle concessioni che ha fatto lo Stato come pianificazione e che quindi lo Stato può decidere di rimangiarsi sostanzialmente nell'interesse della collettività pubblica. Questi sono i punti fondamentali su cui discutere perché risolti questi allora sappiamo benissimo la strada da percorrere. Dopodiché abbiamo da incentivare la riqualificazione energetica, la rigenerazione, il recupero delle aree dismesse abbandonate, abbiamo fior di aree industriali da recuperare, bonifiche da fare in Italia che non partono mai e che potrebbero creare migliaia di posti di lavoro. Noi abbiamo fatto un calcolo, lo dico a tutte le conferenze dove mi invitano e parlo sempre, un miliardo investito in ricerca di idrocarburi crea 600 posti di lavoro, sono dati ufficiali e un miliardo investito in bonifiche crea 19 mila posti di lavoro tra diretto e indotto. In riqualificazione energetica crea 18 mila posti di lavoro, abbiamo già visto questa crescita di posti di lavoro sull'eco bonus, però queste misure devono essere strutturali e devono essere integrate in una visione del futuro che vogliamo e quindi anche un eco bonus se vogliamo dare un'incentivazione la dobbiamo dare almeno a 5 anni, a 6 anni, insomma dobbiamo dare la certezza alle aziende che investono in quel settore di poter avere una certa solidità, di poter assumere personale e non pensare l'anno prossimo non so più se ci sono gli incentivi, gli italiani sono senza soldi in questo momento di crisi, come faccio a investire sul personale? Tra l'altro personale qualificato, possiamo sviluppare un nuovo tipo di edilizia, l'edilizia della riqualificazione, tutto questo ci porta a vantaggi non solo per quanto riguarda il consumo di suolo, ci porta a vantaggi sulla salute, ci porta a vantaggi sulla dipendenza energetica dall'estero, se noi investiamo in riqualificazione energetica abbiamo meno dipendenza dall'estero perché ognuno si produce la sua elettricità, la sua energia, abbiamo meno costi sanitari perché se ho meno emissioni perché faccio l'energia dal pannello fotovoltaico sostanzialmente poi ho meno inquinanti in città e la parte di inquinamento dovuta a riscaldamento e raffrescamento è la maggioranza in città, quasi più della parte dovuta ai veicoli, bene allora in questo caso io avrò dei risparmi consistenti perché è prevenzione sanitaria questa, indirettamente ricade su quelle morti di cui parlava la senatrice Puppato, quelle morti che ogni anno non sono considerate come strettamente legate all'ambiente ma che poi gli studi internazionali ci dicono che sono dovute comunque a cause ambientali e sono tutte morti che non sono calcolate nei costi e noi possiamo abbassare la spesa sanitaria e avere poi a disposizione soldi magari da dare ai comuni per evitare che si mangino il territorio con gli oneri di urbanizzazione ma che invece li investano in qualcosa che serve ai cittadini. Non dimentichiamo anche, dobbiamo fare un focus generale sulle infrastrutture, quelle di cui abbiamo veramente necessità e quelle di cui non c'è più necessità ma sono semplicemente una speculazione, una speculazione perché ormai si è promesso a qualcuno che quell'opera si doveva fare e qualcuno ci ha investito dei soldi e pensa al futuro di poterci guadagnare. Allora queste opere, la maggior parte dei casi, sono in project financing in cui il privato guadagna e lo Stato mette i soldi, è un project financing all'italiana che dobbiamo assolutamente combattere. Io vi faccio un esempio, nella zona Milano-Monzabrianza abbiamo dal 30 al 35% all'incirca di, forse arriviamo anche al 40, Monafo potrebbe confermarmi, di territorio urbanizzato, territorio cementificato. Bene, in queste aree dove per esempio in provincia di Milano abbiamo sostanzialmente l'area più libera è la parte sud dove c'è il parco agricolo sud Milano, si sta riflettendo già a fare la Vigevano Malpensa e la Toem dopo le belle esperienze della TEM. Capite bene che questo diventa un problema se nel 2017, mentre parliamo di vorremmo fare una legge sul consumo di suolo andiamo avanti però a finanziare delle opere che vanno a distruggere il territorio. 40% del territorio consumato per infrastrutture di cui la maggioranza sono inutili. Vado sulla legge prima per chiudere. Ho poche speranze anch'io che la legge possa andare avanti, i tempi sono troppo stretti ma soprattutto devo dirvela sinceramente in questo momento io spero che questa legge non vada avanti perché rispetto a come è iniziato l'iter, rispetto alla proposta che aveva fatto il Movimento 5 Stelle ma anche la proposta Catania che era un po' più di principio e meno limitante è arrivata poi una proposta del governo che tra l'altro ci si chiede, arriva una proposta del governo e siamo ancora fermi dopo 4 anni, vuol dire che il governo non era così intenzionato a portarla avanti. Questa proposta è lì bloccata al Senato ma ci sono dei punti che discutendo anche con la senatrice Puppato e i suoi collaboratori non condividono loro stessi quindi abbiamo la possibilità di modificare la destinazione d'uso delle zone agricole e degli edifici agricoli. Abbiamo la rigenerazione urbana di intere parti della città data per delega, quindi il governo potrà fare tramite questa delega sostanzialmente delle deroghe al testo unico dell'edilizia perché non è vincolato a nulla, non c'è nessun paletto all'interno della legge e quindi ci potrà essere un'anarchia nella gestione di queste aree rigenerate di città. E poi ci sono scadenze infinite come al solito, è successo anche nella legge sul sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, si sono messe tante scadenze, tante deleghe e il problema è che si rischia che abbiamo una legge in ballo ma che poi non venga mai attuata o comunque che quando verrà attuata saremo al 2050 e saremo obbligati a bloccare il consumo di suolo. Allora forse bisognerebbe avere veramente quel pugno di ferro e dire basta, non si può più, non si può più aspettare perché il danno sarà troppo grande quando ci arriveremo, allora facciamolo adesso, adesso blocchiamo il consumo di suolo, adesso discutiamo delle fasi transitorie, discutiamo dei diritti edificatori, discutiamo della supremazia della pianificazione territoriale degli enti pubblici. Questo è il punto da cui partire secondo me, credo che non ce la faremo in questa legislatura, abbiamo buttato via altri 5 anni di cui non ci potevamo permettere di perdere ancora questo tempo, spero che al più presto se ne riesca a discutere seriamente, concretamente, senza troppi interessi di parte. Anche perché la stessa Ance ci dice che avrebbe interesse a investire, ce lo dice in alcuni consensi, in altri lo nega, avrebbe interesse a investire in riqualificazione energetica perché il mercato c'è, avrebbero da lavorare per i prossimi 20-30 anni, però c'è ancora tutta una parte di edilizia che si è sviluppata sulla speculazione, che tiene botta, tiene duro e che spesso è legata anche ai partiti e che quindi blocca queste leggi perché vuole continuare a speculare sul nostro territorio nell'interesse di alcuni e non di tutti. Grazie. Grazie all'onorevole Massimo De Rosa. All'inizio ho toccato un argomento che mi ha colpito particolarmente, cioè quello dell'informazione da parte dei media soltanto in emergenza. Questa è una questione annosa, se ne parla, se ne dibatte, ma non se ne viene fuori. Il consumo di suolo, così come tanti altri argomenti che riguardano la tutela dell'ambiente, vengono trattati dai media soltanto in emergenza. Quindi diciamo così, le informazioni circolano a certi livelli soltanto quando c'è l'emergenza. Adesso sentirete parlare del consumo dei suolo, di questi dati allarmati del consumo di suolo per giorni e giorni, dopodiché non se ne parlerà più se non ciclicamente. Quindi ecco, l'augurio è che invece l'informazione sia continua anche per dar modo ai rappresentanti delle istituzioni di poter programmare e pianificare in tempi utili. Quindi informazione sul consumo di suolo e non solo, ma sull'ambiente anche in tempi, per così dire, di pace. Io ringrazio tutti i rappresentanti istituzionali che hanno partecipato a questa prima parte della presentazione. Chiamo qui con me al tavolo l'ingegner Michele Munafo, perché entriamo nel vivo proprio della presentazione del rapporto sul consumo di suolo. Grazie ancora a tutti. La presentazione si articolerà in più interventi e inizia l'ingegner Munafo, proseguiranno i colleghi del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Buongiorno a tutti. Grazie anche da parte mia per l'ospitalità in questa sede istituzionale prestigiosa. Grazie anche e soprattutto ai relatori che mi hanno preceduto, perché hanno veramente introdotto, penso nella miniera più opportuna, il nostro lavoro e la nostra presentazione. Tra l'altro dando anche elementi che aiuteranno molto la mia stessa presentazione, perché tenterò quindi di fornire qualche dato, qualche informazione, ma devo dire molte delle spiegazioni e delle interpretazioni del tutto condivisibili sono già state anticipate. Sarà una presentazione a più voci, quindi anche per segnare chiaramente il fatto che questo è il primo rapporto dalla entrata in vigore della legge istitutiva del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente ed è frutto di un lavoro congiunto, condiviso e molto sentito dall'intero sistema nazionale. Quindi sarà una presentazione a più voci da parte mia e da parte di altri quattro colleghi che vedete elencati nella slide e che interverranno subito dopo di me. Cercheremo di fare un qualcosa di abbastanza snello, veloce, perché ovviamente il tempo a disposizione è poco. Chiaramente siamo dei rappresentanti di un sistema, ma soprattutto di un gruppo di lavoro e di persone che ha contribuito a questo importante rapporto dal nostro punto di vista, molto significativo. Riporto questa immagine della pagina dei contributi, del rapporto che avete sott'occhio, tanto per dare un'idea di qual è la mole di persone che ha lavorato a questo lavoro, a questo rapporto, sia del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente sia di soggetti esterni, come veniva richiamato nei saluti introduttivi, che noi riteniamo un contributo fondamentale per vari motivi, sia perché questo non vuole essere un rapporto tra virgolette autoreferenziale, il sistema non si racconta da solo, ma vuole interagire con il mondo della ricerca, delle istituzioni, con la realtà e anche perché poi da questo mondo noi otteniamo dei contributi fondamentali per leggere meglio la realtà e per migliorare il nostro processo di rappresentazione del territorio. Quindi vado subito al mio intervento che tenterà di dare un quadro rapido a livello nazionale e poi seguiranno gli approfondimenti dei colleghi. Quindi ricordavo poc'anzi il tema del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, quindi grazie a una rete di referenti del sistema noi abbiamo quest'anno, devo dire in maniera molto condivisa e molto cooperativa, raggiunto questo risultato che, come richiamavano molti degli interventi precedenti, ha portato a questa nuova mappatura del territorio nazionale, una mappatura che ha raggiunto un'accuratezza sia geometrica, quindi stiamo parlando di una risoluzione in grado di rappresentare la realtà anche a livello comunale e subcomunale, ma anche un'accuratezza tematica, quindi una qualità del dato che in qualche modo è ormai decisamente affidabile e le nostre indagini, la nostra validazione terza ha permesso anche di apprezzare questo. È un lavoro che ogni anno in realtà tende a migliorare e a migliorare l'intera serie storica, per cui voi troverete già da oggi sul nostro sito istituzionale tutti i dati e anche la revisione dei dati degli anni precedenti, questo per dare l'idea che comunque è un cammino di miglioramento progressivo delle informazioni che in qualche modo deve permetterci di fornire queste informazioni, quindi a livello nazionale abbiamo detto che abbiamo superato i 23.000 km2 di suolo artificiale, le tre regioni con i valori più alti pure sono state richiamate, Lombardia, Veneto e Campania, la Lombardia sfiorò ormai il 13%, è probabile che nel corso di quest'anno abbia già ormai raggiunto il 13% del territorio artificiale, quindi la prima regione a superare questa soglia, l'unica regione è rimasta ormai sotto il 3% delle valle d'Aosta, con altre due regioni con i valori più bassi che sono la Sardegna e la Basilicata, questo è un po' il quadro nazionale ma come vedete questa carta a livello comunale ci riporta bene l'andamento sul territorio con questo consumo di suolo che si concentra in alcune aree, lo richiamava l'onorevole Catania prima, sono le pianure, i fondi valle, le aree costiere, sono queste le zone dove si concentra il consumo di suolo è dove il consumo di suolo supera ampiamente il 15% anche il 30% con picchi anche di oltre la metà del territorio artificiale e del territorio comunale artificializzato e quindi un processo che non si è fermato e si è rallentato, stiamo parlando di questi 3 metri quadri al secondo in questo periodo analizzato dal rapporto tra la fine del 2015 e la metà del 2016, ricordo che abbiamo toccato all'inizio degli anni 2000 anche picchi di 8 metri quadri al secondo, quindi insomma valori decisamente più elevati ma ricordo anche che siamo in un periodo in cui la crisi economica ha toccato fortemente questo mondo in particolare il mondo dell'edilizia e quindi questi 5.000 ettari consumati in questi soli sei mesi che sono equivalenti per dare un'idea a uno spazio in grado di ospitare 200.000 villette oppure lo richiamava la nostra moderatrice prima 2.500 km di autostrada, questo in sei mesi è quello che è stato fatto sul nostro territorio. Quindi un incremento significativo che in termini assoluti, qui vedete una sorta di graduatoria delle province dove in termini assoluti c'è stato l'incremento maggiore, la provincia di Treviso è quella con l'incremento maggiore seguita dalla provincia di Salerno, quella di Roma, Viterbo, Vicenza e poi le altre. Quindi in qualche modo si conferma anche in questa immagine comunque il problema dell'area della pianura padano-veneta come una di quelle più toccate da questo fenomeno ma anche la capitale e Viterbo quindi due province laziali hanno avuto valori piuttosto alti. Se andiamo a vedere i comuni con più di 150.000 abitanti, quindi principali comuni, qui vediamo che il valore di Roma che è chiaramente un comune un po' particolare non soltanto perché è la capitale d'Italia ma perché è un comune enorme che è più grande di molte altre province quindi chiaramente è un dato che va considerato anche da questo punto di vista però sicuramente ha un valore di questi 54 ettari consumati solo in sei mesi che doppia il secondo comune che è quello di Torino, poi Bologna, Reggio Emilia, Catania e le altre. Se noi vediamo quali sono questi cambiamenti e dove sono avvenuti questi cambiamenti vediamo che il 55% di questi cambiamenti sono avvenuti in una fascia che nell'agenda delle Nazioni Unite richiamata prima viene chiamata fascia periurbana, cioè un'area urbana a bassa densità. Bene, più della metà dei cambiamenti avvengono proprio in questa fascia, in questa fascia che pervade molte aree del nostro territorio, una fascia dove c'è stata un'urbanizzazione dispersa a bassa densità, ma comunque un'area urbana, quindi di fatto il territorio ha perso i suoi connotati rurali, ma stiamo parlando di una città a bassa o a bassissima densità, ebbene lì avvengono, avviene la gran parte dei cambiamenti, in particolare di quelli tra il 2012 e il 2016. Un altro quasi 10% avviene in aree densamente costruite, cioè delle città urbane già compatte. Quindi quasi il 65% dei cambiamenti è un cambiamento di densificazione, cioè va ad addensare quel tessuto esistente, questo degli ultimi quattro anni. Se noi invece guardiamo attraverso un miglioramento delle informazioni anche degli anni precedenti, abbiamo potuto allungare lo sguardo su un tempo più lungo, che è anche più utile per dare un'idea di quello che sono i processi di trasformazione, quindi tra il 2006 e il 2012, in particolare questi dati sono sulle principali aree urbane, abbiamo che, vedendo anche la tipologia di intervento, il 22,3% dei cambiamenti riguarda la densificazione di aree residenziali, quindi siamo andati a densificare le aree residenziali in ambito urbano. Quasi il 28% sono nuove aree industriali e commerciali, spesso a loro volta in un tessuto periurbano, e il 23,1% sono nuove aree urbane a bassa densità. Lo sprolo urbano, il nuovo sprolo urbano che investe il territorio comunque prevalentemente naturali o agricoli in precedenza. Bene, tra questi numeri, come vedete, manca l'espansione urbana tipica della città compatta. Di fatto non esiste, cioè la gran parte dei cambiamenti, la quasi totalità dei cambiamenti, rientrano in queste categorie. La espansione urbana classica, cioè quella che noi si aspettiamo, una lottizzazione urbana di un quartiere a media alta densità, di fatto rappresenta, adesso qui non ho il numero, però mi sembra a memoria, lo 0,4% dei cambiamenti. Quindi capite bene che questa tendenza, da un lato alla densificazione, veniva richiamata prima, dall'altra alla dispersione, due tendenze contrapposte che invadono il nostro territorio, aumentando fortemente da un lato la frammentazione artificiale del territorio naturale agricolo e la dispersione, lo sprolla e l'impatto del consumo di suolo, dall'altro fanno perdere invece la qualità urbana, quindi quei vuoti urbani, quegli spazi aperti urbani che sono fondamentali per il nostro benessere. È evidente che è un processo che dovrebbe essere in qualche modo governato, riorientato meglio per evitare che invece la situazione sia questa. E proprio per evidenziare questa tendenza alla frammentazione del territorio naturale agricolo, abbiamo introdotto quest'anno questa nuova valutazione che riguarda la dimensione media fondamentalmente, la possibilità che ci siano quindi delle dimensioni di aree naturali sufficientemente grandi a evitare quindi una frammentazione dovuta a elementi artificiali, infrastrutture, viabilità e quant'altro. Bene, da questa nostra analisi che vedete riportata anche in cartografia qui dove si vede chiaramente che gran parte del territorio è ormai disturbato, molto frammentato, di fatto solo l'arco alpino ma anche vedete la dorsale appenninica risulta quasi dovunque con alcune eccezioni, magari all'interno dei parchi nazionali, frammentata. Bene, il 40% del territorio nazionale è di fatto ad elevata frammentazione. Sui dati del consumo di suolo in fascia costiera, la fascia dei corpi d'acqua, in area a pericolosità idraulico, da frana è stato detto, qui vedete alcuni numeri richiamati, ma insomma è evidente che questo è un problema storico che deriva da una situazione prolungata nel tempo ma che comunque anche negli ultimi anni è tutt'altro che fermata. E infine un'ultima informazione, anche questa anticipata un po' dall'intervento introduttivo, che riguarda gli scenari futuri. Quindi abbiamo detto oggi più volte che il 2050 è l'anno in cui l'Unione Europea ci chiede di fermare il consumo di suolo, ovvero di arrivare a zero come velocità di trasformazione. Sulle ordinate di questo grafico vedete la velocità di trasformazione in chilometri quadrati l'anno. Bene, se la linea verde rappresenta un percorso virtuoso, un percorso in cui linearmente noi andiamo e continuiamo a far crescere, a far diminuire questa velocità di trasformazione in maniera significativa. Cosa che una volta usciti dalla crisi non è detto che sarà così, soprattutto se non ci saranno leggi poi in grado a livello nazionale e regionale, in grado di dare un vero stop, un vero contenimento di questo processo. Bene, comunque anche in questa situazione il nostro scenario prevede 1635 chilometri quadrati di nuovo suolo artificiale. In uno scenario in cui noi mantenessimo costante la velocità di trasformazione di questi anni, di questi anni quindi dettati dalla crisi economica, questa curva gialla, questa linea gialla che vedete, bene, se noi mantenessimo costante questa velocità arriveremmo a consumare altri 3270 chilometri quadrati. Se invece la velocità tornasse ai valori medi degli ultimi decenni, la linea arancione, o ai valori massimi dei primi anni 2000, quindi usciti dalla crisi la velocità dovesse tornare ai periodi d'oro del consumo di suolo, diciamo così, bene, avremmo addirittura tra i 7 e gli 8 mila chilometri quadrati in più artificiali prima del 2050. Che cosa vuol dire 8 mila chilometri in più? Per dare un'idea, 8 mila chilometri sono quasi il 40% di quello che abbiamo costruito da sempre nel nostro paese, da sempre, dagli antichi romani fino ad oggi, insomma, per dare un'idea, abbiamo parlato di 23 mila chilometri quadrati di suolo artificiale, se noi costruissimo altri 8 mila chilometri quadrati di suolo da qui al 2050 copriremo un altro 40% in più rispetto a quello già fatto. Quindi è evidente che qualcosa bisogna fare, quindi ho apprezzato enormemente gli intenti e la volontà della relatrice e degli altri componenti del Parlamento italiano nell'affrontare questo tema. Anche perché, anche questo è stato richiamato e soprattutto poi ci tornerà il collega Paolo Giandonne nella sua presentazione, tutto questo ha dei costi, dei costi in termini di perdita di servizi ecosistemici che le nostre nuove stime confermano in termini, in un valore compreso tra 630 e 910 milioni di euro l'anno, una sorta di debito ecologico che noi ci porteremo davanti, ci porteremo a dover affrontare, siamo costretti a dover affrontare da qui in avanti a causa soltanto del consumo di suolo avvenuto tra il 2012 e il 2016. Quindi a questo punto, direi senza interruzione di continuità, chiamerei subito il collega Vittorio Marletto, eccolo lì, perfetto, così può continuare la presentazione, direi che per accorciare i tempi ci passeremo la parola se la nostra moderatrice ce lo consente direttamente. Senz'altro chiedo poiché il tempo, grazie a Michele Monafò, che lo ricordo è responsabile dell'area monitoraggio e analisi integrata del suolo per Ispra, il tempo non è solo tirando per il consumo di suolo, anche per noi, quindi prego i relatori di stare diciamo nei 7-8 minuti durante il loro intervento. Grazie. Sì, grazie, cercherò di consumare poco tempo, visto che di suolo ne abbiamo consumato tanto. Io vorrei innanzitutto portare il ringraziamento mio e dei miei collaboratori e degli amici di Garpa e Emilia Romagna a Michele Monafò e i suoi collaboratori che hanno fatto un lavoro pazzesco per fare questo rapporto, è un rapporto pieno di informazioni, è vero che abbiamo tutti collaborato, però devo riconoscere che il lavoro svolto qui a Roma è stato veramente enorme e quindi non è un ringraziamento formale ma è sostanziale. Se prendete il volume scoprite che circa un centinaio di pagine di questo volume sono dedicate esclusivamente alle regioni, cioè ogni regione viene trattata individualmente e siccome le regioni sono 20 ci sono un centinaio di pagine piene di mappe e di grafici, di tabelle che riguardano i singoli dati regionali. La situazione nazionale è estremamente variegata, abbiamo già visto dalle mappe come sono diversificate dal punto di vista territoriale e allora io mi sono limitato a selezionare alcune cartine cercando di non fare il solito percorso da nord a sud ma andando un po' a casaccio. Per esempio dentro al capitolo sulla Sicilia ho prelevato la carta della copertura del suolo regionale, cioè qui questo tipo di cartografia mostra quale porzione del territorio è ancora occupata da boschi di vario tipo, qui ci sono due tipi fondamentali che sono le latifoglie e le conifere, se ci sono dei prati e le zone invece colorate di rosso danno la estensione sostanzialmente effettiva delle zone dove c'è il maggiore consumo di suolo che naturalmente sono nei paraggi delle o in corrispondenza delle principali aree urbane, dei capologhi di provincia, delle zone più intensamente utilizzate per il turismo costiero e così via. Invece un altro tipo di cartografia che trovate per ogni regione è il consumo di suolo, questa invece è una classica carta tematica, cioè non corrisponde esattamente alle dimensioni territoriali ma dà un'informazione di tipo quantitativo relativamente ad ogni comune, cioè ci dice in Calabria in questo caso quali sono i comuni dove è maggiore o minore il consumo di suolo in percentuale nel 2016 rispetto al 2015. Quindi questa è una carta che per ogni regione ci dà la variazione di questo dato rispetto all'anno precedente. Qui si vedono le zone dove la dinamica di consumo del suolo è maggiore in ogni regione suddivisa poi per i singoli comuni. Ad ogni carta poi sono associate anche delle tabelle per cui si possono recuperare i dati, tutti i dati poi sono disponibili anche sul sito, quindi è possibile fare ulteriori approfondimenti. Io qui volevo solo fare una brevissima parentesi e spezzare un po' una lancia a favore delle pagine web, cioè cerchiamo di uscire dai pdf. Se noi usciamo dai pdf riusciamo a comunicare meglio alla popolazione italiana, ai politici e ai giornalisti i nostri dati. Se i dati stanno compressi dentro di rapportoni pdf si fa una gran fatica a recuperarli. Per esempio facciamo un confronto con l'Agenzia per l'Ambiente americana, adesso tanto chiacchierata perché gli hanno messo a capo insomma uno che non è proprio un ambientalista, però lì le pagine web sui diversi argomenti sono sviluppate in chiaro, sono scritte in html, ci sono soprattutto i grafici, alcuni di questi grafici fantastici che hai fatto vedere prima, devono essere tutti estratti da questi e bisogna fare uno sforzo di comunicazione con gli amici della comunicazione che sono bravissimi a produrre delle pagine che siano facilmente linkabili, riportabili su facebook, sugli altri social e così via. Chiudo la parentesi per tornare alle cartine regionali. Ecco ad esempio questo è un esempio che ho preso della cartina del Molise che è una regione molto piccola e qui appare molto rossa. Perché appare molto rossa? Perché questa è la cartina del suolo consumato pro capite. Se io consumo una certa quantità di suolo e nel mio territorio ci sono pochi abitanti, questo indicatore fa un salto e diventa rosso, quindi dà l'impressione che siano le zone rurali quelle dove c'è, in realtà nelle zone rurali è più forte la dinamica per abitante, quindi si costruisce un supermercato in una zona dove ci sono 2-3 mila abitanti, questo aumenta molto l'indice del suolo consumato pro capite. Ecco invece l'Emilia Romagna che è la regione da cui vengo io, qui faccio vedere un altro tipo di rappresentazione che è in metri quadri per abitante all'anno la variazione pro capite, cioè si vedono i comuni nei quali è maggiore la dinamica in base al numero di abitanti. Quindi si possono fare diverse considerazioni, anche qui tendono a prevalere zone che non sono quelle più urbanizzate. Un'altra cartografia molto interessante che ha una sua dinamica storica ed è presente per ogni regione, qui faccio vedere il Friuli Venezia Giulia perché ha una geometria molto curiosa, si vede come le aree urbane si sono evolute in particolare lungo gli assi stradali, lungo le diverse direttrici nelle quali il fenomeno è avvenuto e questo è un lavoro interessante perché addirittura ripercorre, consente di vedere come sono variate le cose dal 60 fino ai giorni nostri. Quindi il nero erano gli abitati storici di 50 anni fa e più e invece cercando nella cartina le zone più chiare e i colori più chiari si trovano le urbanizzazioni più recenti. Qui invece c'è un segnale che riguarda, ed è un segnale qualitativo su questo tipo di cartografia, qui c'è la densità del consumo di suolo, cioè si vedono le zone che sono rimaste, per fortuna in maggioranza in questo caso, prevalentemente naturali, chiaramente sono quelle più montuose, quelle più agricole e così via, e poi invece si vedono in giallo le zone urbanizzate a bassa densità dove c'è in realtà lo sprawl in piena attività e le zone che sono invece densamente artificializzate come quelle della capitale e di altri nuclei urbani. Questa invece è la carta tematica qui ho tirato fuori la Puglia, ma in realtà si vede bene anche nello stesso riquadro anche la densità della zona, delle zone diciamo di Salerno. Prima abbiamo sentito parlare che Salerno è la città che risulta la seconda in classifica, o è la provincia forse, che risulta la provincia che risulta la seconda in classifica come intensificazione dell'urbanizzazione e del consumo di suolo. E qui si vede con diversi cerchi di varie dimensioni in ettari, espressi in ettari, quanti ettari sono stati consumati in cinque anni, cioè dal 2012 al 2016, insomma in quattro anni, con i cerchi più grandi che danno, si vede per esempio su Salerno questo grappolo che è piuttosto inquietante, ma anche intorno a Bari si vedono questi grappoli di dimensioni ragguardevoli e anche intorno a Taranto, a Lecce e così via. E qui c'è questo indice nuovo che è stato incluso nella cartografia, qui vedete il territorio risulta tutto suddiviso in pixel, cioè in rettangolini tutti uguali, in quadratini tutti uguali, per ogni quadratino ci sono solo cinque colori a disposizione, là dove il colore è rosso vuol dire che c'è la massima frammentazione, invece là dove il colore risulta verde la frammentazione del territorio è più bassa, quindi sono più ampie le espansioni di territorio agricolo, di territorio forestale, di territorio ancora naturale. E nel caso della campagna che presento, questa è una situazione chiaramente drammatica perché la frammentazione territoriale è veramente notevole. Ecco, io con questo mi fermo e passo poi la parola a chi deve seguirmi. Grazie al dottor Marletto dell'ARPA-E. Chiamo ora al tavolo Benedetta Radicchio dell'ARPA-Puglia. Buongiorno a tutti, anche ARPA-Puglia si associa, ringraziamento a Michele Monafoa e a tutto il gruppo di Ispra perché con il loro incredibile lavoro rendono soprattutto concreto quello che sono i principi ispiratori del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale. In questo intervento, in questa carrellata di immagini, cerchiamo di far vedere quelli, di tradurre in immagini quelli che erano i numeri dell'intervento dell'ingegner Monafo. Innanzitutto, uno degli esempi, uno dei processi più significativi di artificializzazione del suolo riguarda le infrastrutture. Qui siamo in Veneto, a Riese, e nella immagine successiva invece siamo nel Lazio ed è un parcheggio, quindi le infrastrutture riguardano, come sappiamo, la costruzione di porti, aeroporti, strade soprattutto asfaltate. È da segnalare che in questa tipologia di consumo di suolo spesso le aree che sono prese sono maggiori di quelle che poi faranno parte del sedime infrastrutturale. Parte di queste aree poi ritorneranno agli usi precedenti, parte invece, quelle intercluse nelle infrastrutture, non torneranno più agli usi precedenti. Abbiamo visto dai numeri dell'intervento precedente che un'altra tipologia significativa di consumo di suolo sono i poli commerciali e i poli logistici. Qui abbiamo tre esempi, due in Lazio e uno in Lombardia. In questa tipologia c'è da considerare che oltre all'area occupata dal polo logistico abbiamo un'impermeabilizzazione delle aree per il movimento merci e delle aree per i parcheggi. Quindi parliamo. Tutte queste trasformazioni, come diceva l'ingegnere Munafo, avvengono nell'area periurbana, perché questi poli commerciali e poli logistici si vanno a localizzare in area periurbana, nelle aree di frangia, vicino a vie di scorrimento. Questo è un polo commerciale nel Lazio. Queste sono tutti, in queste prime immagini, interventi tra il 2015 e il 2016. Qui siamo a Montalto di Castro, un esempio di fotovoltaico, un esempio di consumo di suolo che negli anni recenti è in recessione, ma che ha avuto per esempio in Puglia un impatto molto significativo dovuto agli incentivi nazionali per le energie rinnovabili. Questo invece è un esempio in Campania ad Eboli di serre, quindi di agricoltura, in ambiente protetto di serre permanenti. Come diceva l'ingegnere Munafo, il maggiore incremento è dovuto ancora alla densificazione delle aree residenziali. Qua vediamo dei piccoli incrementi all'interno del tessuto urbano, poi vedremo anche delle immagini invece di diffusione e di dispersione, che sono le due tipologie che ancora crescono. Questo è ancora un intervento in area perurbana sempre residenziale. Questi stessi interventi tra il 2015 e il 2016, se letti invece nel lungo periodo, fanno molta più impressione. Questo è un'intera area urbana, tra l'altro a ridosso della costa a Bari, di un grande intervento residenziale. E questo è sempre Puglia, Barletta, sempre in area di frangia. Questo invece è un caso di diffusione, un caso interessante perché è in area agricola, su un sistema insediativo rurale, si è andata a incrementare in maniera minimale, un tessuto omogeneo, senza regole precise, che prima è stato dovuto alle seconde case e che adesso è ancora in trasformazione perché si incrementano per attività turistica. l'immagine che ne viene fuori di questa diffusione. Questo si vede poco, perciò ho messo le stelline, è un'area vicino Brindisi per far capire che cosa ha prodotto il fotovoltaico in un arco temporale che va dal 2012 al 2016. Queste sono sempre infrastrutture in un lungo periodo, 2012-2016, e queste sono due infrastrutture in Lombardia, questa è l'Atene di cui si parlava prima. L'ultima diapositiva è l'ultima perché dà conto di un particolare consumo di suolo che è quello relativo all'attività estrattiva e dà anche una speranza perché in un'ultima immagine a destra c'è l'immagine di una cava che a sinistra mostra dal 2012 al 2016 ha avuto un'occasione di rinaturalizzazione e quindi l'ultima diapositiva è anche una speranza. Grazie alla dottoressa Radicchio dell'ARPA Puglia sia per questa ultima immagine di speranza sia per aver tradotto in immagini i dati del rapporto sul consumo di suolo. Do ora la parola al dottor Paolo Giandon dell'ARPA Veneto. Grazie, anch'io ringrazio brevemente perché credo che questo che abbiamo intrapreso sia insomma un esempio di come il sistema dovrebbe lavorare, l'ISPRA che insieme con l'ARPA opera per obiettivi comuni e in particolare in questo caso sul consumo di suolo. Il mio compito è brevemente dire che cosa stiamo perdendo. Allora introduco dicendo che il 2015 è stato l'anno internazionale del suolo e non lo è stato a mo' di celebrazione. Lo è stato perché l'ONU ha ritenuto che la situazione sia molto critica a livello mondiale. Noi a livello mondiale contiamo relativamente in proporzione, però è nostro compito e impegno anche partecipare agli impegni della comunità internazionale. E la FAO in un recente simposio che si è tenuto a Roma a fine marzo ha ribadito un'altra volta che in presenza di cambiamenti climatici e intensi fenomeni di degrado del suolo e di perdita di biodiversità i suoli sono diventati una delle risorse più vulnerabili al mondo e questo voglio dire dovrebbe aumentare ancora l'attenzione nostra. Perché il suolo è così importante? È già stato accennato da diversi che hanno preceduto perché fornisce servizi ecosistemici. A volte mi chiedo se questa sia una parola troppo difficile per la gente comune. Perché dico questo? Perché vedo che si fa molta teoria ma si fa fatica ad andare nella pratica. I servizi ecosistemici non sono cose difficili perché è la capacità di un suolo a produrre alimenti, è la capacità di immagazzinare il carbonio anziché lasciarlo nell'aria, è la capacità di regolare il deflusso dell'acqua, di depurare le acque quindi per avere modo poi di avere acqua pulita. Sono cose molto semplici con cui abbiamo a che fare quotidianamente. Eppure, in qualsiasi procedimento di autorizzazione o di approvazione di un piano territoriale questo tipo di impatti non vengono tenuti in considerazione. E qua dobbiamo chiederci come ma... Eppure l'impatto c'è perché quando perdiamo una qualsiasi superficie di suolo perdiamo capacità a produrre e perdiamo tutto quello che ho elencato prima. Un accenno alla capacità produttiva, cioè a produrre alimenti. In una ipotesi cautelativa un ettaro di suolo è in grado di sostenere la vita di 20 persone, cioè è in grado di alimentare 20 persone. Mediamente perché in pianura padana molto di più, perché le produzioni e le rese sono molto più alte. Ecco, questo vuol dire che negli ultimi sei mesi di consumo, avendo perso 5.000 ettari, abbiamo, diciamo, perso la capacità ad alimentare 100.000 persone. Ecco, detto così potrebbe essere una cosa d'impatto o anche no, nel senso che abbiamo ancora molto altro terreno e quindi capacità ad alimentare altre persone. Però torniamo alla prospettiva globale. se il contributo di tutti è importante, lo è anche il nostro. La cosa anche che impressiona di più è che se noi andiamo a classificare i suoli che abbiamo sul territorio in funzione della loro capacità produttiva, prendendo a riferimento qui metodi internazionalmente riconosciuti, per classificare i suoli rispetto a questo elemento, vedremo che i suoli di classe prima, seconda e terza, cioè quelli più adatti alla produzione agricola forestale, sono quelli più consumati, perché gli altri di quarta, sesta o settima classe, cioè i peggiori, avendo delle limitazioni evidentemente anche di natura fisica, non sono interessati al consumo. Questo è il caso del Veneto, ma penso che le immagini, quantomeno per le altre regioni della pianura padana, siano molto simili. Poi in altri contesti, bisognerebbe valutare caso per caso, ecco, rispetto a quello che dicevo prima, cioè la capacità di dare una valutazione dei servizi ecosistemici, credo che il nostro sistema delle agenzie, ma in generale il sistema della pubblica amministrazione, debba crescere, perché le informazioni ci sono, però sono disperse, non sono messe a sistema e sono difficili da utilizzare. Questo è un caso significativo preso da un'alta pianura veneta, quindi questa è una mappa che ci dice qual è la capacità produttiva dei suoli, verde scuro è la massima capacità produttiva, verde chiaro buona comunque, giallo un po' meno buona, arancione la peggiore, la quarta. Se andiamo a vedere com'è il consumo, guarda caso, l'edificazione si è consumata praticamente tutto il territorio migliore. Ma non solo, questo è comprensibile per quanto riguarda magari il centro storico di partenza, però anche l'espansione per com'è avvenuta nella cintura urbana e anche nel tessuto rurale segue, interessa spesso i suoli migliori e senza quindi nessun riferimento alle caratteristiche dei suoli. Un altro servizio ecosistemico importante è quello del serbatoio di carbonio. Se ne parla molto, questo simposio della FAO ad esempio di marzo era proprio solo sull'importanza, sullo stato, la conoscenza del carbonio organico nel suolo e cosa si sta facendo per conservarlo. Soprattutto nell'ottica dei cambiamenti climatici, perché il suolo a livello mondiale ha in sé il doppio del carbonio che c'è nell'atmosfera. Quindi se noi aumentiamo la capacità del suolo a immagazzinare il carbonio potremmo anche ridurre la concentrazione di CO2 nell'atmosfera. E questo nella chiave di tutti gli impegni che ci sono per contrastare i fenomeni dell'effetto serra ha una sua importanza rilevante. E quindi è importante che noi andiamo a mettere in evidenza che il consumo del suolo toglie questo magazzino, questo serbatoio. Non lo toglie totalmente, nel senso che il suolo che togliamo nel luogo dove edifichiamo probabilmente lo appoggeremo, lo depositeremo, andrà a finire da qualche altra parte. Quindi il carbonio che c'è non viene totalmente perso. Ma è certo che in ottica territoriale c'è questa perdita. e ipotizzando che mediamente in un suolo in Italia possa stoccare, abbia un contenuto di 100 tonnellate di carbonio organico per ettaro il consumo di suolo che c'è stato finora in Italia quindi quegli 23.000 km2 di suolo vogliono dire 23 milioni di tonnellate di carbonio organico in meno che non è più nel suolo ma evidentemente è in atmosfera per buona parte. L'ultimo aspetto che volevo mettere in evidenza è una perdita di regolazione del deflusso idrico e questo è molto importante soprattutto nell'ottica della prevenzione dei fenomeni alluvionali anche nella nostra regione ma in molte altre parti d'Italia si stanno facendo grossi investimenti per aumentare le capacità di invaso del territorio cioè si scavano delle buche togliendo il suolo perché l'acqua nei momenti di piena si possa possa andare in queste buche anziché andare ad alluvionare le città, le case eccetera questo però diciamo questa necessità deriva dal fatto che consumando molto suolo noi abbiamo perso anche la capacità che ha il suolo di trattenere l'acqua e se pensiamo che ogni ettaro è in grado mediamente di trattenere 2-3 mila metri cubi di acqua anche qui si sta presto a fare i conti quanto suolo abbiamo consumato qual è la capacità di invaso che abbiamo perso tant'è vero che per ogni intervento edilizio se sei in un'area a difficoltà di deflusso in particolare devi anche oltre all'intervento di edificazione fare gli interventi idraulici quindi le casse di espansione, i bacini di laminazione quello che è per evitare che ci siano problemi di sofferenza idraulica aumentando logicamente in questo modo anche il consumo e questa è la mia ultima credo diapositiva consumando il suolo quindi si riduce la capacità di invaso questo qua è ancora il caso del Veneto per praticità anche perché insomma in agenzia abbiamo anche queste informazioni sulle caratteristiche dei suoli e come vedete a seconda delle province abbiamo perso anche fino al 20% della capacità a trattenere acqua che aveva il territorio solamente avendo edificato e avendo consumato il suolo ah no scusate io l'ultimo aspetto su cui volevo tornare a cui ha già accennato l'ingegnere Munafo relativo a quanto ci costa cioè perdere questi servizi perché se perdiamo questi servizi questo comporta dei danni o quantomeno comporta una minor capacità ad affrontare le emergenze e le problematiche ambientali che si presentano e questa perdita di servizi è stata quantificata dai colleghi di Ispra a livello nazionale credo che sia molto interessante perché questo approccio sarebbe da sviluppare evidentemente e da dettagliare anche di più vedete che la principale perdita è dovuta alla perdita di produrre alimenti perché logicamente quello è un valore anche economico anche magari più direttamente quantificabile però anche la perdita di capacità di infiltrare acqua o la perdita di suolo per erosione o la perdita di suolo come protezione dall'erosione scusate o la perdita di capacità a stoccare carbonio insomma contano ciascuno di questi circa 100 milioni di euro l'anno quindi complessivamente è quella cifra che si diceva così distribuita tra le varie province italiane quindi con il nostro nord-est diciamo in testa ma con dei buoni alleati in tutto il resto d'Italia io vi ringrazio dell'attenzione grazie al dottor Giandon dell'ARPA Veneto che è un'altra componente del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente do ora la parola all'ultimo intervento di questa presentazione che è quello di Enrico Bonansea dell'ARPA Piemonte prego grazie, buongiorno a tutti a me tocca il compito di raccontarvi come siamo più o meno arrivati a realizzare questo rapporto quindi dal punto di vista metodologico le tecniche e gli strumenti che abbiamo utilizzato chiaramente sarà una presentazione molto breve e dovrò sorvolare su molti concetti innanzitutto l'attività come è stato ricordato è un'attività omogenea a livello nazionale sviluppata quindi con le stesse tecniche le stesse metodologie su tutto il territorio realizzata in tempi molto stretti e completamente realizzata con gli strumenti le risorse umane, tecnologiche e economiche del sistema agenziale questo è un aspetto altrettanto rilevante da far notare tutta l'attività quindi è stata realizzata attraverso un uso intensivo di mezzi di telerilevamento e di fotointerpretazione di dati satellitari dati cartografici, dati ortofotografici i dati che abbiamo utilizzato sono stati richiamati sono immagini satellitari dopo vedremo quali tipologie di immagini satellitari ortofoto di alta risoluzione disponibili su contesto nazionale o su contesto regionale immagini commerciali come quelle di Bingo o di Google Maps dati topografici nella disponibilità di Ispra o delle regioni o delle agenzie tutti i dati tematici dei sistemi informativi territoriali disponibili all'interno delle singole agenzie e anche dati pubblici come i dati di OpenStreetMap tutti questi elaborati opportunamente confrontati con i risultati delle mappature degli anni precedenti il principale dato satellitare che abbiamo deciso di utilizzare per la prima volta a livello nazionale quest'anno è il dato derivante dal programma Copernicus un programma della Commissione Europea che prevede il lancio di una serie di satelliti per il monitoraggio dell'ambiente e per la gestione dei fenomeni di sicurezza e di protezione civile senza entrare nel dettaglio questo programma molto ambizioso e molto complesso prevede il lancio di più tipologie di satelliti con risoluzioni molto diverse e con caratteristiche tecniche molto diverse in un arco di tempo che va dal 2015 a un 2020 spostato anche in avanti con finalità diverse dal monitoraggio dell'uso del suolo al monitoraggio delle acque al monitoraggio degli aspetti legati all'atmosfera quindi all'aerosol e all'altro componente di inquinamento dell'aria fino alle temperature degli oceani noi abbiamo utilizzato in particolare i primi dati satellitari del Sentinel-2 che sono stati resi disponibili proprio quando è iniziato il progetto di fatto alla fine del 2015 e all'inizio del 2016 non entro nei dettagli un satellite ottico con una buona risoluzione quindi una risoluzione a terra di 10 metri, 20 metri, 60 metri in seconda delle bande ma la cosa più importante è che ha una periodo di rivisitazione dello stesso territorio che prima era di circa 12-13 giorni adesso con il lancio del secondo satellite gemello 2A e 2B avremo una rivisitazione delle stesse aree di rivisitare ogni 4 giorni in media sull'anno questi dati sono totalmente gratuiti e messi a disposizione della comunità di ricerca e comunità scientifica del cittadino direttamente dai vari hub come quello dell'ESA queste sono le bande in cui questo satellite acquisisce vedete solo che ce ne sono diverse che sono proprio finalizzate allo studio della vegetazione e quindi la parte che noi utilizziamo al negativo per determinare invece la componente di consumo di suolo questi sono degli esempi di immagini satellitari senti nelle diverse combinazioni delle bande quindi con l'infrarosso, nel visibile o con bande ancora diverse in questo caso tra Lago Maggiore e Lago d'Orta il flusso di lavoro quindi prevede un'attività di collezione dei dati di classificazione di queste immagini di interpretazione manuale fino alla parte di validazione emessa in comune dei dati molte di queste attività sono state fatte a scala regionale e poi alcune sono state fatte come attività comprensiva solo a livello nazionale giusto per darvi un'idea questo è la quantità di dati che occorre gestire in un processo come quello che abbiamo avviato quest'anno per la prima volta quindi un consistente numero di immagini satellitari da trattare tutti questi dati come dicevamo prima concorrono a un processo di analisi, classificazione e elaborazione per il calcolo di vari indici per cui quelli della vegetazione che permettono poi di avere dei dati utili per la fase di classificazione automatica che portano alla realizzazione della mappa di consumo di suolo mappa di consumo di suolo che viene confrontata chiaramente con i risultati del consumo di suolo dell'anno precedente questi sono solo esempi invece di dell'attività della fase di classificazione in cui il fotointerprete o l'esperto di telegrammamento ricerca su queste immagini delle chiavi di lettura per istruire gli algoritmi di classificazione che portano poi alla classificazione stessa la mappa quindi di classificazione automatica viene riclassificata in modo diciamo booleano 0-1 consumato o non consumato aggregando le varie classi che vedete riportate e quindi riportando alla classica mappa di suolo consumato o non consumato inizia quindi un'attività molto onerosa e molto complessa di classificazione manuale a partire dai risultati automatici attraverso fotointerpretazione utilizzando tutti i dati di disposizione che vedevamo prima e attraverso l'integrazione di altri dati geografici cartografici disponibili questo è un esempio di analisi manuale in questo caso utilizzando le stesse immagini Sentinel su un caso su Torino è un caso di densificazione legata alle trasformazioni per il nuovo complesso dello stadio della Juventus a nord di Torino avvenuto nel 2016 questi sono altri esempi invece di interpretazione di ortofoto di precisione alcuni sono stati riportati prima in precedenza questo invece è un esempio di utilizzo anche di dati commerciali dove le immagini satellitari non sono sufficientemente dettagliate o dove le immagini dell'ortofoto non sono sufficienti ci si avvale anche di strumenti come Street View in questo caso che mette in evidenza l'apertura di un cantiere legato proprio alla trasformazione in area di parco tra l'altro di Stupinigi questo è un altro esempio invece di utilizzo di indici NDVI quindi di vegetazione per evidenziare strutture in trasformazione questo è un esempio di trasformazione legata alle opere del Terzo Valico nella zona della Liguria e del Piemonte tutta questa attività non si fa solo con i computer si fa anche attraverso le mani e gli occhi dei fotointerpreti che poi identificate tutte queste situazioni vanno a digitalizzare e quindi ad aggiornare le mappe inserendo le nuove le trasformazioni come vedete in questo semplicissimo esempio tutti questi dati confluiscono a livello nazionale e attraverso un processo di mosaicatura verifica validazione creano il geodatabase che è alla base del rapporto questo lavoro è fatto attraverso il coordinamento della rete nazionale dei referenti mi associo ai ringraziamenti a ISPRA e a tutti i colleghi di questa rete che hanno coordinato l'attività e che hanno permesso in un tempo abbastanza record di realizzare questo geodatabase che poi è alla base del calcolo di tutti gli indicatori che sono stati presentati stamattina e che si trasformano poi nelle tavole nelle tabelle che concorrono alla predisposizione del rapporto questo in estrema sintesi è un lavoro di sei mesi di molte persone vi ringrazio per l'attenzione grazie al dottor Bonansea io concludo questa prima parte prima di dare la parola al collega Munafo che modererà la tavola rotonda mi sembra chiaro quindi che quello che stiamo operando è un disturbo questo è un termine che avete sentito usare molto questa mattina imperdonabile che stiamo pagando nei termini che abbiamo sentito finora ma che pagheranno ancora di più le generazioni future e non sono sicura di sapere in che termini lo pagheranno e concludo con una frase del 32esimo presidente USA Roosevelt che certamente non era un ambientalista ciò nonostante disse la nazione che distrugge il proprio suolo distrugge se stessa chissà cosa avrebbe detto oggi grazie bene allora io intanto giro ringraziamenti anche a tutta la struttura Ispra che ha lavorato intensamente in questi mesi quindi vedete un po' dispersa nella sala soprattutto lì in quella zona perché ovviamente questo lavoro che come avete immagino intuito da questa presentazione è un lavoro veramente collettivo di tante persone inizio a chiamare al tavolo i relatori della tavola rotonda mi prego di avvicinarvi quindi sono Paolo Pileri Politecnico di Milano Marco Marchetti Presidente di Aissa Patrizia Colletta dell'Ordine degli Architetti Matilde Casa Sindaco di Lauriano e Silvia Viviani Presidente e adesso mi alzo io così lascio il posto alle cose e modererò non ho visto Silvia Viviani sì eccola lì ok perfetto quindi ci siamo tutti quindi facciamo così io mi modero dal lato così ci sono cinque posti cinque relatori grazie grazie a tutti i relatori la mia introduzione sarà molto breve anche perché siamo un po' in ritardo e poi ho parlato anche molto prima quindi volevo giusto dare il senso di questa tavola rotonda a voi tutti e anche ai relatori la logica è chiaramente discutere approfondendo alcuni aspetti specifici del nostro lavoro ma soprattutto la logica della tavola rotonda vede fondamentalmente due persone che sono il professor Pileri e il professor Marchetti che in qualche modo hanno da un lato contribuito al lavoro soprattutto rispetto quindi anche in rappresentanza di questi soggetti esterni all'SNPA della parte diciamo accademica scientifica di ricerca del lavoro e quindi con il loro contributo credo che possano aiutare noi ma insomma tutto il paese insomma in rappresentanza di istituzioni di ricerca e delle università ad aumentare la conoscenza e la consapevolezza collettiva su questo tema poi le altre tre persone al tavolo dal nostro punto di vista dovrebbero rappresentare un po' gli attuatori se vogliamo coloro che poi in qualche modo devono acquisire queste informazioni mettere in pratica o tradurre in pratica questa conoscenza nella loro azione a diversi livelli quindi un'azione che è da chi in qualche modo al tavolo rappresenta un po' anche gli ordini professionali in questo caso l'architetto Colletta a chi invece rappresenta un po' la categoria del mondo dell'urbanistica la presidente dell'istituto nazionale urbanistica Silvia Viviani e chi invece rappresenta un po' a questo tavolo il mondo delle amministrazioni locali con però un'esperienza che in qualche modo penso possa essere utile raccontare quindi darei senza ulteriori preamboli la parola subito al professor Pileri del Politecnico di Milano che in qualche modo è stato forse se non il primo però uno dei primi nel mondo dell'urbanistica nazionale a porsi un po' questo problema che cosa abbiamo sotto i nostri piedi buongiorno a tutti grazie di questo invito grazie del lavoro di Ispra che io ritengo sia un lavoro di resistenza innanzitutto e lo dico con la R maiuscola non volendo offendere nessuna resistenza ovviamente nel senso che sono ormai anni e anni che il gruppo di Munafo sta facendo questo lavoro ed è strabiliante vedere come questo lavoro poi di fatto non venga raccolto effettivamente come dovrebbe essere raccolto perché è inutile avere sul petto onoreficenze se poi queste non servono a far andare avanti il paese di fatto quindi questo lo dico lo dico anche perché in questa stessa sala visto che Michele dice che sono tra i più vecchi a occuparmi di questo argomento ahimè forse sarà così in questa stessa sala nel 2010 io presentai mi ricordo alcune osservazioni sul consumo di suolo sono passati sette anni e siamo ancora qua con un dispositivo che non funziona che non sarà provato e sul quale devo purtroppo dire che non c'è stata anche il collante tra chi sta predisponendo questo dispositivo e il mondo della ricerca lo dico con tantissima franchezza perché se così ci fosse noi saremmo subissati di telefonate il mio telefono non squilla eppure noi da anni stiamo raccontando queste cose stiamo dichiarando gli effetti ambientali drammatici di tutto ciò se voi prendete per quanto riguarda il mio piccolo contributo a pagina 160 vedete che ancora oggi nonostante quello che stiamo dicendo nonostante quello che stiamo denunciando possiamo dire così perché la ricerca ha anche questo infausto compito 18 regioni su 20 18 senatrice Puppato non 18 regioni su 20 hanno ancora consumato suolo nonostante la domanda per cui lo si consuma ovvero l'incremento demografico non c'è stato quindi vuol dire che tutte queste belle parole gli intendimenti come dire non hanno sortito molto anzi nulla anzi il contrario si stanno affrettando a consumare prima che chissà che arrivi una norma che blocchi da qualche parte il consumo perché questo perché purtroppo l'indugiare genera lo voglio dire con grandissima chiarezza questo indugio genera un'accelerazione di consumo ancora più insensato perché se no non avremmo quel dato incredibile 18 regioni su 20 hanno consumato suolo nonostante non ci fosse uno straccio di domanda per farlo ora prima sentivo l'onorevole Catania dire la responsabilità dei comuni è vero in parte io sono come dire tra coloro che ho sempre e continuo a dire che esiste una frammentazione amministrativa a cui non si vuole dare risposta perché la politica non è interessata a dare risposta a questo il 70% dei nostri comuni sotto i 5.000 abitanti siamo l'unico paese del sud Europa ad avere la completa delega agli usi suoli ai comuni sbagliato tutti gli altri paesi dell'Europa l'hanno capito e hanno rivisto questa situazione noi no perché qui dentro come dire in questo serbatoio ovviamente accade uno scambio è evidente chiaro lo devo dire io lo dico io uno scambio elettorale uno scambio di interessi uno scambio di prossimità è evidente che sia così ma non è però colpa solo dei comuni mi permetto di dire perché anche questo Parlamento che il lunedì frequenta molto il sabato e domenica il lunedì frequenta per come dire per come organizzato il territorio io credo di aver presentato fatto parte di centiaia di seminari sul territorio sul consumo di suolo ma non ho visto membri del Parlamento partecipare non ho visto membri del Parlamento poi riportare con preoccupazione questa questione anzi sono stato chiamato in Senato e nella Camera più volte e purtroppo perché alle audizioni non serve il numero legale se no ovviamente eravamo io e quattro altre persone quindi vuol dire che questo tema e lo scrivo nel mio piccolo intervento ha un elemento fondamentalmente drammatico che è quello culturale che è quello culturale io sono fortemente convinto perché l'ho passato sulla mia pelle che noi non sappiamo cos'è il suolo non abbiamo ancora capito cos'è il suolo arriviamo ancora ad una tradizione per cui il suolo sia per gli urbanisti che sono complici di questo dramma sono complici come lo dico con grandissima chiarezza anche gli universitari urbanisti perché ovviamente come dire sarei ingiusto se non facessi anche un'autovalutazione di noi stessi assolutamente però voglio dire continuiamo a pensare il suolo come una superficie certo negli ultimi anni abbiamo capito che non è solamente questo però insomma tra capire che non è questo e come è stato detto dalla moderatrice prima impressionarsi capire l'urgenza la drammaticità l'emergenza in cui siamo va bene e questo no ora vuol dire che allora altri interessi altre pressioni o l'ignoranza o l'ignoranza o la drammatica potenza dell'ignoranza fa sì che si portino avanti ancora politiche dissennate sull'uso del suolo e urbanistiche questa legge questa proposta di legge è piena di parole manomesse che siccome arrivano esattamente dalla non comprensione della gravità delle questioni e dalla non comprensione dell'oggetto delle questioni perché quando si parla di compensazione ambientale si pensa che c'è il gioco delle due carte scopro da una parte scopro dall'altra parte e automaticamente wow non ho consumato suolo c'è scritto questo c'è scritto questo nelle definizioni vuol dire non aver capito che il suolo è un corpo ecologico senatrice vuol dire non aver capito che il corpo è un corpo ecologico e lo dico anche ovviamente prima di legge giustamente alla camera che ha licenziato quella cosa lì vuol dire non aver capito questa cosa e se come mi è stato detto più volte come dire vedi professore ma tu sei un radicale no non è vero mi sono detto più volte che bisogna la politica si fa di compromessi di mediazioni io non credo che il compromesso a mediazione sia il principio portante certo è un elemento sicuramente della trama politica ma non può essere il principio attraverso da cui mi muovo per decidere una cosa cito la laudato si lo dico da laico fervento perché è una è un'enciclica dove io farei farei un'audizione nel senato e chiamerei il papa voglio dire a spiegare alcune cose perché si vede che sfuggono mannaggia come c'è scritto molto chiaramente che le vie di mezzo sono solo un piccolo ritardo nel disastro questi sono i compromessi cioè di fronte al fatto che da tutte le parti stiamo dicendo che oggi Ispra ci porta anche dei conti economici tra cui non c'è il conto economico dell'impermializzazione non mi sbaglio c'è anche quello ma credo che sia ampiamente poi ne parleremo perché come dire in Germania dove sono stato insomma io mi sono fatto due o tre conti pubblicati nessuno li ha contraddetti credo che il costo dell'impermializzazione in questo paese solamente per la gestione delle acque sia intorno ai 10 miliardi all'anno va bene nell'urbanizzato i miei colleghi di Politecnico di Milano che proprio non siamo proprio gli ultimi parlano di circa 50 centesimi per metro quadro di urbanizzato quindi fatevi conti e viene fuori una decina di miliardi quindi voglio dire se vogliamo andare avanti a urbanizzare impermeabilizzare beh bisognerà anche capire se poi ci avremo i soldi anche per tutto questo credo che e provo a chiudere credo che qui dentro ci siano come dire scusate il tono un po' di franchezza un po' chiaramente di disappunto perché ve l'ho detto cioè nel 2010 eravamo qua in questa sala forse ero al posto questo perché ero proprio qui non so perché mi avevano chiamato quindi mi ha messo forse nell'angolino di là però come dire e quindi mi ricordo cioè però la cosa che la cosa che che va detta è che alla fine occorre forse ed è un po' la vicenda dell'ultimo anche l'ultimo libro che abbiamo scritto di riannodare come dire le corde molli voglio dire dei rapporti tra il mondo della ricerca e il mondo della politica perché questo non sta accadendo e questo invece è importante che accada perché il lavoro che ha fatto Ispra i soldi che spende Ispra poi devono essere devono trovare devono trovare come dire ricaduta all'interno del sistema delle regioni il sistema regioni non sta usando la mappa che Ispra propone il sistema dei comuni non li sta usando e quindi vuol dire perché non è obbligatorio perché facoltà non funziona questo sistema è un sistema che continua a spendere risorse e poi rende facoltativo poterlo fare dopodiché c'è da fare un lavoro sui piani urbanistici i piani urbanistici sono pieni di consumi di suolo potenziali che purtroppo questi dispositivi queste proposte di legge non vedono non vogliono vedere in commissione ambiente al senato ho spiegato cos'è un'area interclusa e ho fatto vedere nei piani quante aree intercluse va bene architetti urbanisti ingegneri continuano a tranquillamente trasformare perché tanto la legge glielo consente e anzi quella legge dirà anche che non costituisce consumo di suolo così almeno non abbiamo neanche più il dubbio signori per dire quindi ci sono dei grossissimi come dire dei grossissimi grossissime questioni da fare però ripeto secondo me come dire è veramente il nocciolo è culturale cioè davvero su questo io suggerivo anche a qualche ministro di impiegare dei soldi per girare l'Italia spieghiamo cos'è il suolo spieghiamolo spieghiamolo in tutti gli angoli ero in Valtellina un altro giorno per un seminario e purtroppo un sindaco di un piccolo comune nonostante la regione Lombardia abbia una una legge a detta della regione Lombardia contro il consumo di suolo a detta mia no ma comunque vabbè nonostante questo quel sindaco non l'aveva letta ma non gliene faccio una colpa è evidente che sono oberati da milioni di cose quindi ha maggior ragione la questione sul uso del suolo perché è una risorsa ambientale è l'unica risorsa in questo paese che è ambientale ma non è riconosciuta come ambientale e di conseguenza è in mano al sindaco e questo non può funzionare perché non ce la fanno non ce la fanno e quindi bisogna da questo punto di vista non unire i comuni ma fonderli rivedere il dispositivo di come dire di uso del suolo e anche il fatto che le regioni stiano provvedendo malamente più o meno tutte a immaginarsi leggi contro il consumo del suolo ma che sono con ordini di grandezza e intensità differenti cosa succederà? succederà che il mercato andrà a depositarsi nelle parti molli del sistema è evidente da dove ho possibilità maggiori cerco di infilarmi e quindi genereremo anche con questo meccanismo lasciato in completa delle galle alle regioni anche dei sistemi che saranno disuguali in partenza il problema è poi riprendere le regole di questa questione vedete quante ce ne sono finisco dicendo assolutamente che il consumo di suolo non serve in questo momento anch'io sono come dire assolutamente per lo zero assoluto perché solo lo zero assoluto imporrà al mercato effettivamente di guardare la rigenerazione e il recupero con serietà perché fin tanto che i sindaci delle grandi città dove si stanno facendo delle operazioni finanziarie a partire dalle città metropolitane a partire dalla mia città faranno operazioni di consumo di suolo di fatto dicendo che è rigenerazione ma nel frattempo lasciando che nella città metropolitana si consumino anche suoli agricoli in questo nuovo scambio lo scambio 4.0 per cui ok facciamo che io nella città metropolitana dove ho delle rendite molto forti consumo anche su delle aree fintamente dismesse va bene o anche dismesse e faccio rigenerazione ma tu comune di terza fascia che sei nella città metropolitana io faccio finta di niente e continuo pure a consumare su ex aree agricole e questo sta accadendo perché di fatto questo scambio sta accadendo allora la rigenerazione può avvenire se davvero abbiamo la capacità anche di muovere il tessuto delle imprese verso una dimensione di grandissima responsabilità civile e tirando fuori il meglio delle nostre capacità come imprese come architetti come ingegneri come urbanisti perché è lì che si vedono veramente la capacità di reagire c'è spazio per questo abbiamo milioni di divani sottutilizzati quindi prima si devono fare questo ma non c'è una legge che possa dire prima il riuso come purtroppo questa legge bisogna bloccare assolutamente qualsiasi tipo sono d'accordo con Mario Catania qualsiasi tipo di consumo di suolo anche quello dentro i tessuti urbani consolidati altra chimera che si sono inventati gli urbanisti insieme a chi fa le leggi per nascondere consumi di suolo e anzi legittimabili scusate grazie Paolo grazie perché i suoi interventi sono sempre molto importanti una piccola precisazione i costi che noi diamo sono i costi soltanto del consumo di suolo degli ultimi quattro anni quindi non i costi del totale del suolo impermeabilizzato in Italia ma soltanto delle trasformazioni degli ultimi quattro anni quindi insomma assolutamente nessuno smentisce le tue valutazioni che sono relative però ai costi insomma del totale delle superfici artificiali in Italia quindi forse bisognerebbe dirlo ha ragione questo effettivamente prendiamo nota di questo importante appunto andiamo avanti con il professor Marchetti si è parlato di suolo che cos'è questo suolo quali sono le sue funzioni quali sono i suoi servizi ecosistemici il professor Marchetti è il presidente di Aissa delle associazioni scientifiche in qualche modo sono volte alla gestione di questo suolo e quindi gli chiederei ma questo suolo è veramente così importante come questo suolo può essere conosciuto meglio e perché deve essere conosciuto meglio e perché poi è importante capire gli effetti in generale delle dinamiche del territorio quindi non soltanto quelle del consumo ma delle dinamiche che toccano un po' tutti i suoi italiani e in particolare poi si è accennato oggi anche al tema un po' delle aree interne della loro frammentazione dovuta alle infrastrutture e ad altro anche perché lì pure magari in miniera entità quantitativa ma probabilmente degli effetti negativi del consumo di suolo come è stato detto ci sono bene molte grazie non posso non unirmi ai ringraziamenti e anche ai complimenti per questa mole di lavoro incredibile che è stata fatta da questo piccolo esercito ben coordinato benissimo coordinato perché altrimenti non sarebbe giunto a questi risultati non indugiamo oltre su questo grazie anche di queste domande credo che rispetto forse al 2010 il fatto che oggi ci sia anche la ISSA che è l'associazione italiana delle società scientifiche agrarie quindi tutti i ricercatori e gli scienziati italiani che si occupano di agricoltura zootecnia e anche di agricoltura pedologia sia abbastanza significativo forse perché perché in un paese che ha fatto dell'expo qualche pochissimo tempo fa la provincia il comune che ha fatto dell'expo la sua immagine è più importante noi vediamo che poi ciò che stiamo comprimendo di più a cui stiamo dando meno chance è proprio il settore primario io credo che sicuramente voglio dire grazie anche alla politica oggi perché mi sembra che aveva parlato chiaro e non soltanto in maniera negativa conosciamo tutti quanti i limiti che ha anche la politica soprattutto al centro ma credo che la parola ignoranza che Paolo ha usato poc'anzi sia un'altra delle nostre caratteristiche importantissime e su questo non posso neanche io far da scudo la ricerca o al mondo accademico e scientifico perché negli ultimi 15-20 anni la nostra capacità di trasferimento tecnologico è sicuramente stata molto bassa possiamo metterci dentro il fatto che gli indici di valutazione della ricerca sono ormai di tipo quantitativo o pubblichiamo su riviste internazionali occupandoci di cose super sofisticate oppure non possiamo andare avanti soprattutto i giovani quindi questo ha limitato certamente il trasferimento tecnologico la diffusione la terza missione del mondo scientifico su cui stiamo cercando di recuperare e sicuramente l'agricoltura è quella che ha perso di più in termini di terza missione negli ultimi 30-40 anni nel nostro paese ma l'agricoltura lo dico nella sua eccezione vasta di mondo agrario perché se posso aggiungere qualcosa a quello che è uscito oggi perché veramente abbiamo toccato un sacco di temi che si collega al discorso servizi ecosistemici direi che forse una cosa che possiamo una notazione che possiamo fare prendendo l'ultima domanda di Michele Munafo è che viviamo un momento storico in cui non soltanto stiamo arrivando al massimo siamo al massimo del consumo e del disturbo che questo disturbo va molto oltre gli effetti del consumo e su questo è stata spesa già qualche parola e credo che i prossimi rapporti e gli sforzi del mondo scientifico debbano andare anche nella direzione di valutare l'entità del disturbo cosa succede negli spazi interstiziali perché se sono spazi o negli spazi periurbani se sono spazi che sono in attesa per rendita fondiaria o qualche altra cosa e non vengono recuperati non è che nel frattempo hanno una grande funzione ecologica o produttiva non sono impermeabilizzati ma sono per esempio il primo ricettacolo delle specie aliene ed invasive che sono un'altra tematica che dal punto di vista ecologico dovremmo avere bene in mente però un processo che dobbiamo invece ricordare nelle dinamiche della pianificazione territoriale e su questo auspico che la collaborazione anche nel mondo scientifico tra mondo del settore primario della pianificazione agricola e forestale e mondo della pianificazione urbanistica inizia a parlarsi un po' di più è il fatto che noi viviamo però anche una fase storica nel nostro paese che probabilmente è antessignana di quello che sta succedendo in Europa anzi gli ultimi numeri della Commissione Europea ce lo dicono in cui non vediamo soltanto di essere ai vertici del consumo di suolo ma noi siamo il primo il paese in Europa che abbandona più velocemente l'agricoltura anche non per consumarla perché noi viviamo negli ultimi 15 anni abbiamo visto l'espansione naturale del bosco di 30.000 ettari all'anno 11.000 sono il dato odierno di consumo se fate la somma per i 365 giorni all'anno di quello che è stato consumato viene fuori oggi che ne consumiamo 11.000 queste due pressioni dove vanno sempre sul mondo dell'agricoltura sempre su quella famosa catena produttiva di cui invece siamo nella quale saremo primi al mondo in termini di immagini di capacità e allora anche qua bisognerebbe far pace con il cervello come forse diceva prima qualcuno credo l'onorevole De Rosa perché io credo che questa polarizzazione che è sicuramente un fenomeno globale perché badate bene noi abbiamo un trend demografico in discesa e forse impicchiata se non accoglieremo giovani che vengono magari da altri paesi impicchiata proprio ma continuiamo a vivere questo fenomeno dell'urbanizzazione lo stiamo vedendo perché le aree interne si stanno ancora spopolando un po' perché invecchiano un po' perché i giovani vanno via un po' perché la popolazione residente si sposta nei fondovalle nel caso delle aree interne sulla costa o nelle pianure e lì andiamo a consumare i nostri suoli abbandonando gli spazi rurali della montagna che invece vengono invasi rinaturalizzati ricolonizzati per ora non possiamo ancora dire in termini ecologici questa parola rinaturalizzazione ha sempre dei termini molto difficili perché al momento sono rinselvatichiti e questo non c'è nessun dubbio è una parola rewilding che viene usata anche in commissione come una tematica di studio importantissima per il futuro dei 27 paesi membri ma noi ricordiamoci anche però è stato citato da Paolo Giandon qualche numero significativo ed immagine noi siamo un paese che non ha autosufficienza alimentare alimentare oltre che essere il paese più importante del mondo come brande nella trasformazione agricola alimentare il paese che ha il maggior numero di DOP DOC DOCG depositate a Bruxelles non soltanto quelle del vino quelle dei formaggi quelle dei salumi eppure noi continuiamo e aumentiamo la forbice che ci vede produrre con latte tedesco i formaggi e i prosciutti con i maiali olandesi questo non c'è dubbio il vino è una categoria la vita è una categoria un po' la viticoltura un po' a sé tanto è vero che gli unici segnali che vediamo nelle statistiche agricole più recenti e anche qui possiamo aprire un tema importantissimo noi abbiamo abbandonato il sistema agricolo è stato più o meno abbandonato dalla statistica ufficiale se non con i censimenti decennali ma le congiunturali sappiamo che sono numeri che lasciano spesso a desiderare però abbiamo una controtendenza nella crescita dell'agricoltura soltanto per uno o due comparti consumiamo suoli naturali per mettere vigneti aumentiamo molto il numero dei vigneti in parallelo il Veneto ideale il nome Prosecco è il massimo dove non ci sono capannoni e infrastrutture ci sono vigneti di Prosecco che vanno ben al di là di Valdobbiadene perché se potessero metterli in laguna ormai li metteremo anche in laguna quindi sono queste schizofrenie che possiamo dichiarare come contraddizione ma che per ora chiamiamola polarizzazione ma che rientra un po' in questo tema del dire cosa facciamo di quest'uso del suolo noi abbiamo una parola che non è ancora uscita oggi ma che credo alla fine possa riassumere abbiamo la materia urbanistica e le materie agricoltura e foreste che da 77 sono delegate alle regioni con tutte le ricadute di questo è già stato detto e con tutti gli enti locali intermedi che hanno le disgrazie che hanno i comuni soprattutto quelli piccoli o le regioni le loro capacità di autoreferenzialità a volte direi che le portano a definizioni e processi diversi però noi in Costituzione dell'articolo 9 abbiamo anche che teoricamente lo Stato tutela il paesaggio ma noi questo paese dov'è il MIBACT adesso sicuramente c'è qua alza la mano spero no però perché grazie rispetto a questa tematica rispetto a questa tematica noi nella velocità di avanzamento anche di consapevolezza dell'amministrazione non siamo mai andati avanti su questo assolutamente abbiamo magari siamo stati in grado di fare una grande azione di tutela di cose delle nostre nicchie dei nostri valori importantissimi pensate al valore incredibile dell'Atlante e dei paesaggi rurali tradizionali che sono quelli che sono un po' la nostra immagine ma che ormai stiamo cercando di rischiando di far diventare dei musei ecco questo è un po' l'ulteriore tema che credo si colleghi alla giornata odierna e poi sul tema suolo torno per ultimo alla prima domanda di Michele questo tema suolo in realtà è stato bistrattato un po' da tutti purtroppo prendiamo atto anche del fatto che è materia complessa e difficile perché neanche la commissione è riuscita a portare in porto la strategia europea sul suolo e questo bisogna dobbiamo prenderne atto si tornerà alla carica e il mondo scientifico è assolutamente convinto di questo e dico subito il tema suolo la scienza del suolo è la più complessa di quelle che abbiamo tra le mani delle scienze ecologiche e biologiche è difficile è difficilissima il mondo scientifico il mondo accademico il ministero della ricerca dell'università hanno disinvestito su questa materia negli ultimi vent'anni le catre dei scienze del suolo sono crollate del 60% negli ultimi 15 anni anche nelle stesse facoltà di agraria che sono invece proliferate noi abbiamo 25 sedi universitarie tantine che dove si svolgono si tengono corsi di studio legati all'agricoltura alle foreste alla zootecnia alle tecnologie alimentari alle scienze gastronomiche adesso tema importantissimo su cui questo rischio di scissione tra produzione tra cibo e agricoltura è allaguato tutti i giorni nel nostro paese però sul suolo abbiamo disinvestito 4 o 5 sedi vantano scienziati e decicatori che si occupano di pedologia in maniera scientificamente approfondita e invece è il problema più grosso perché se noi potessimo passare agli amministratori la consapevolezza che quei suoli che ci ha fatto vedere di nuovo Giandono con capacità d'uso molto elevata dal punto di vista del servizio ecosistemico di produzione è un suolo che è un delitto consumare e avessimo avuto la capacità di dirglielo prima questo sarebbe stato forse uno dei compiti certamente del mondo scientifico ma anche di chi deve aiutare il mondo scientifico a fare ricerca e su questo credo possiamo prendere un piccolo impegno c'è un piccolo box alla fine pagina 159 mi sembra del rapporto perché assieme al CREA del Ministero delle Politiche Agricole si sta facendo da anni e assieme a tante regioni chiaramente questo è ai servizi tecnici di tante regioni dove questi non sono stati smantellati soprattutto un grande sforzo di conoscenza della variabile suolo mettendo a sistema le conoscenze che esistono per realizzare un database geografico proprio sul riconoscimento dei valori e delle caratteristiche dei singoli suoli ecco se l'anno prossimo potremo mettere sovrapporre il consumo anche a quell'esempio che ci ha fatto vedere sempre Giandon quali suoli abbiamo consumato potremmo avere un'aggiunta di consapevolezza che credo in un paese come il nostro sia doveroso portare avanti grazie grazie Marco per l'intervento sempre molto pertinente e completo ovviamente mettere a sistema un po' chiudo sulla cioè riprendo un po' le tue parole di chiusura è un elemento fondamentale che insomma di cui ci facciamo promotori e portavoce di cui insomma ovviamente su cui dovremo lavorare moltissimo un po' tutti come sistema paese le competenze sono disperse anche a livello di ministeri insomma sappiamo che questo è un tema che tocca come dimostra anche il fatto che la stessa proposta di legge del governo fu firmata da quattro ministri quindi insomma è evidente come ci sia una frammentazione a livello centrale ma poi anche a livello locale invece dare la parola all'architetto Colletta che da anni insomma segue questo questo tema e in generale delle trasformazioni del territorio legate a dinamiche lecite e lecite tra l'altro anche il tema dell'aposivismo è tornato recentemente anche alla ribalta ha contribuito con il suo lavoro anche all'interno del rapporto di cui la ringrazio quindi abbiamo visto un po' le trasformazioni abbiamo anche voluto far vedere qualche esempio anche per toccare con mano un po' che cosa è successo in questi sei mesi che abbiamo analizzato come i professionisti in qualche modo possono anche contribuire a questo come la conoscenza può permeare nella società per tentare di migliorare di contenere di ridurre quantomeno questo processo che sembra inesorabile e come è fondamentale se c'è dal mio punto di vista sì un rapporto fra la discussione delle norme a livello centrale e invece quello che poi avviene realmente insomma sul territorio grazie 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 al dottor Buonafo grazie all'ISPRA al sistema delle agenzie per questo invito non è superfluo ripetere i complimenti per questo straordinario lavoro perché per chi lavora su questi temi da anni cominciare a ragionare su uno strumento così complesso e così completo come il rapporto che ci è stato oggi presentato e vedere se mi permette Paolo Pileri il bicchiere mezzo pieno poi andrò a quello vuoto però in questo momento mi piace cominciare dal bicchiere mezzo pieno e abbiamo oggi uno strumento di conoscenza molto importante anche se discutiamo da decenni di strumenti di conoscenza molti dei colleghi di ISPRA qui presenti in sala sanno bene di quanto e di quale necessità ed esigenza c'è per strumenti di conoscenza e sistemi territoriali di rilevamento di rilevamento satellitare quali grandi passaggi quali io direi quasi salti di qualità sono stati fatti negli ultimi anni ricordava Michele il tema dell'abusivismo dalla mia esperienza professionale personale meno di dieci anni fa le tecniche di change detection per l'individuazione dell'abusivismo edilizio si basavano su rilievi da un metro e da 50 centimetri oggi ragioniamo su tecnologie di rilevamento da 10 centimetri questo ovviamente per la pianificazione urbanistica per la progettazione edilizia è un sistema di supporto particolarmente importante dicevo è un processo importante perché fornisce conoscenza però io voglio aggiungere una cosa che oggi serve per decidere perché se oggi questa conoscenza non ci serve per decidere e soprattutto non serve ad assumere la responsabilità di agire e allora lì forse e vado nel vuoto che indicava Paolo Pilleri forse perdiamo un'occasione ed è un'occasione importante perché la responsabilità di agire da parte di tutti i soggetti della filiera non solo istituzionale ma di tutta la filiera metto dentro i professionisti le amministrazioni i soggetti istituzionali dei vari livelli hanno oggi un obiettivo che è quello di qualificare come valore il suolo perché se non facciamo quest'operazione rischiamo comunque di attribuirne un peso un più o meno determinante nelle scelte insediative nei modelli di trasformazione densifichiamo di più densifichiamo di meno mettiamo più autostrade meno autostrade meno cave o meno pannelli solari allora il punto è se diamo un valore vero al suolo lo indichiamo come un principio fondamentale riusciamo allora ad aprire una discussione sul fatto che essendo un principio fondamentale costituzionalmente tutelato esce dalla frammentarietà della competenza regionale e assume un valore unico e determinante per la trasformazione del territorio per la tutela dell'ambiente per i programmi strategici di sostenibilità perché il primo punto di discussione io credo sia questo se oggi continuiamo a pensare che una sola norma più o meno rilevante possa determinare lo stop al consumo del suolo io penso che stiamo demandando a altri tempi e ad altri modi questo problema lo dico semplicemente per una cosa le amministrazioni a normativa vigente se vogliono il suolo lo possono tutelare Reggio Emilia ha fatto una banalissima operazione ha fatto un'adesione volontaria ad un programma ha fatto una manifestazione di interesse coloro i quali sono titolari di diritti edificatori vogliono attuare le loro previsioni i loro piani attuativi certo vi potete dire ma stai lavorando con un temperino rispetto ad una guerra nucleare io sempre per la famosa logica che meglio il bicchiere mezzo pieno comincio a dire se tutte le amministrazioni cominciassero a lavorare sulle proprie previsioni urbanistiche cominciassero a dire quali sono i margini una cosa che a me è molto piaciuto questo tema della dispersione dell'indice di dispersione e come il margine dell'abitato il margine del costruito costituisce quella famosa linea rossa della quale abbiamo discusso per per decenni forse siamo arrivati quasi a 20 vero Paolo discutiamo di questa famosa linea rossa ora io credo che il tema della riduzione del consumo di suolo non sia solo ed esclusivamente un tema di pianificazione urbanistica e di governo del territorio credo che rientri in un più ampio ragionamento e in una più ampia strategia ultimamente abbiamo presentato una ricerca sullo sviluppo delle capitali europee e sul futuro cioè su cos'è il futuro delle grandi città europee e come progettano il loro futuro uno dei quattro elementi su cui basano il futuro le grandi metropoli parlo di Parigi di Londra di Copenaghen di di tante altre e proprio i piani di resilienza come fattore di competizione e qui vado alla domanda di di Michele se noi non avessimo avuto la crisi la crisi ambientale la crisi economica la crisi finanziaria quella che ormai da quasi dieci anni ha completamente stravolto politiche economiche politiche sociali politiche ambientali e tutto il resto forse anche noi per quel piccolo pezzettino per quel piccolo francobollo che occupiamo nella filiera decisionale noi archidetti noi urbanisti noi tecnici in generale non ci saremmo resi conto che l'urbanistica e l'edilizia non poteva più essere a servizio di una fase espansiva illimitata sul territorio perché se non cominciamo a ragionare di questo e noi abbiamo cominciato con quale armi partendo proprio da un approccio culturale diverso abbiamo cominciato a dire che gli architetti del futuro non sono quelli che continuano a progettare e a dissipare risorse tutte suolo acqua energia tutte abbiamo cominciato a dire ragioniamo di architetti green ragioniamo di economia circolare ragioniamo di sharing economy ragioniamo di quello che oggi viene definito il modello insediativo del futuro cioè una città intelligente una città a bassa meno energivora trasporti più efficienti sostenibili sostenibili allora oggi se il cambiamento se il contrasto al consumo di suolo non non diventa l'elemento portante per i piani di resilienza che come dicevo sono strategici per la lotta ai cambiamenti climatici e per far diventare le città che nel 2030 saranno i poli che danno luogo danno abitazione danno vita lavoro all'80% della popolazione mondiale su questo noi ci giochiamo il futuro ci giochiamo la sfida del futuro perché il tema insediativo il tema demografico è un tema che non può essere scisso dal tema del consumo di suolo leggendo il rapporto due questioni mi sono particolarmente saltati agli occhi e la parte che riguarda gli interventi di trasformazione quindi di consumo di suolo nelle aree protette nelle aree a pericolosità idraulica nelle aree a rischio sismico nelle aree e in tutte queste aree che sono aree vincolate si continua a registrare consumo di suolo e allora il punto sostanziale è questo dov'è l'accoggenza del vincolo perché io nei 150 metri dell'asta fluviale non posso edificare io nei 300 metri della linea di costa non posso edificare nell'area protetta tranne che non sia l'area B dove vale solo lo strumento urbanistico vigente non posso edificare allora c'è un tema di cogenza dei vincoli di rispetto del vincolo di vigilanza del vincolo e di sanzione e repressione dell'atto illecito e qui vengo al tema dell'abusivismo purtroppo per la mia esperienza professionale a me caro è un tema culturale è un tema culturale è un tema politico poco c'entra la pratica edilizia poco c'entra la norma sì poi c'è un tema legato alle norme perché più le norme sono complesse più è facile trovare la modalità di di aggirarla quindi il tema culturale esiste esiste nel senso che oggi è più facile aggirare la norma è più difficile ricostruire in qualunque tipo di comunità un senso civico di rispetto delle regole e ha un valore politico straordinario perché combattere l'abusivismo o andare a verificare se nella fascia dei 50 metri ci siano insediamenti abusivi o meno cosa assolutamente probabile è una perdita di consenso elettorale politico certo e quindi basta dire blocchiamo il consumo di suolo da oggi non si costruisce più mi sembra che l'esperienza della regione lombardia non stia andando proprio in questo ecco quindi forse sarebbe utile mettere in campo una serie di altre di altri strumenti di altri interventi riorientare la rigenerazione urbana lo diceva il senatore Catania l'ex ministro Catania sì con un censimento degli immobili con una vera e propria politica per le bonifiche dove possiamo strutturare un sistema di fiscalità con incentivi modulati perché noi diciamo almeno sono 25 anni 30 anni che diciamo gli interventi di demolizione e ricostruzione interventi di demolizione e ricostruzione il problema è che gli interventi di demolizione e ricostruzione non si fanno se non c'è una politica fiscale adeguata perché i tecnici li sanno fare noi professionisti siamo come dire i porta bandiera della demolizione e ricostruzione poi c'è un tema legato alla delicatezza dei nostri tessuti dei tessuti storici c'è un tema legato ai tipi di intervento rispetto ai quali le sovrintendenze gli antiparco le stesse amministrazioni hanno difficoltà a confrontarsi e di conseguenza queste difficoltà si riverberano sull'attività professionale e poi c'è un tema secondo me che per riorientare la rigenerazione urbana bisognerebbe insieme ai servizi ecosistemici calcolati è vero bisogna come dice il rapporto correttamente e autorevolmente c'è una serie diciamo di elementi da completare da migliorare bisogna cominciare a calcolare le esternalità ambientali sugli interventi di trasformazione perché se non si fa questo se io nel mio piano attuativo nel mio piano di zona non comincio a calcolare che cosa significa estendere di un chilometro il servizio pubblico del trasporto c'è stata tutta una grandissima polemica Roma è stata capofila sul tema degli extraoneri però il problema è questo perché se noi pensiamo che gli oneri di urbanizzazione sono ancora quelli della famosa legge fatta quando io ero piccola e non si capisce che oggi si può insediare solo ed esclusivamente quando c'è un sistema di trasporto pubblico e collettivo e allora non ha senso sì c'è il problema li mettiamo sopra ci spendiamo per la spesa corrente no serve soltanto per la fognatura chiudo io credo che la pianificazione la pianificazione urbanistica la progettazione edilizia possa e debba utilizzare questo strumento ma insieme alla diciamo alla tecnica serve la scelta politica è questo che bisogna fare e insieme noi come ordine degli architetti di Roma stiamo cercando di farlo lo facciamo sollecitando le amministrazioni le istituzioni a guardare insieme alle cose e sicuramente questo questo rapporto è uno straordinario passo in avanti anche per facilitare il lavoro dei professionisti grazie 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 patrizia riprendo una tua frase dicevi che le amministrazioni possono già tutelare il suolo oggi allora io rivolgerei questa domanda proprio alla prossima relatrice matilde casa sindaco o sindaca come preferisce di laureano in provincia di torino che penso che con la sua esperienza intanto è vero questo la tua esperienza cosa dimostra cosa è necessario per gli amministratori per tutelare realmente il suolo per avere gli strumenti per tutelare il suolo serve una legge nazionale serve qualcosa di più che cosa dimostra la tua esperienza in questo senso allora innanzitutto grazie grazie a Ispra grazie a Michele Munafo che mi ha invitata anche se ringraziare è un po' difficile adesso ho capito anche perché ha insistito perché qui serviva un capro espiatorio perché qui una cosa è stata chiara e tutti quelli che mi hanno preceduto erano d'accordo su un'unica cosa cioè che la colpa è soprattutto la responsabilità degli amministratori in particolare quelli locali dicevo appunto all'onorevole Catania e quindi io sono qui a difendere 8.000 sindaci mi sembra un po' non solo ma io rappresento non solo la categoria dei sindaci ma dei sindaci dei piccoli comuni quindi veramente mi sembra di essere al banco degli imputati da questo punto di vista in realtà io al banco degli imputati sono stata davvero quindi sono abbastanza abituata il motivo per cui sono stata chiamata in realtà è una cosa un po' particolare va appunto e Michele che conosce la mia storia ha fatto questa domanda apposta io sono appunto sindaco perché appunto sindaca sarà anche di pare opportunità però suona proprio male in italiano quindi mi piace di più sindaco sono sindaco di un paesino della provincia di Torino che è il nono visto in questo bellissimo rapporto per il consumo di suolo in provincia di Torino città che è al secondo posto quindi siamo piazzati bene come regione io sono sindaco del 2008 vi racconto brevemente i fatti miei perché hanno a che fare in questo senso e sono un po' un caso io dico sempre c'è un libro molto bello di uno scrittore americano Allen che scrisse un libro sul come si diventa nazisti ed è la storia di un piccolo paesino della Vesfalia in cui successe quello che poi in realtà è successo in Germania ma molto in piccolo ed è un caso come dire un caso di storia Lauriano per certi versi lo è nel senso che è stato un caso un po' particolare che infatti ha risvegliato anche una certa eco vi dicevo io nel 2008 sono diventata sindaco di di Lauriano con delle idee abbastanza precise rispetto al modo di amministrare perché uno dei vantaggi nell'amministrare un paese molto piccolo è che quasi tutti sono svantaggi si conta nulla non si hanno risorse eccetera però si è abbastanza liberi di fare scelte anche più coraggiose quindi una delle cose che abbiamo fatto cito è stata rinunciare ad un ad un contributo regionale della regione Piemonte di 500 mila euro Lauriano ha un bilancio di 2 milioni di euro faccio per dire è un quarto che voleva costruire una scuola elementare fuori dal concentrico ex novo noi abbiamo rinunciato a quelli con fondi nostri abbiamo comprato una struttura all'interno del del centro storico e ristrutturata con fondi nostri e qui ci sarebbe da aprire diciamo appunto queste discresie nella politica per cui non so non faccio la legge ma non ti do i soldi per ristrutturare ma questo è poi un altro studio ancora abbiamo fatto una cosa anche lì tra le altre cose abbiamo abbattuto un ecomostro di tre piani a spese nostre che ha costruito un fregio a un rio un'altra di quelle cose che stava lì da vent'anni perché nessuno voleva investire ma anche correttamente io capisco anche le amministrazioni precedenti cioè devi sempre far quadrare abbiamo impedito nel 2009 l'impianto dei pannelli fotovoltaici a terra la provincia di Torino l'ha fatto nel 2010 quindi sei o sette mesi dopo però noi avevamo avuto parecchie richieste erano periodi in cui si faceva ancora molto questo per spiegare non per farla prima della classe per spiegare però che c'era un progetto amministrativo e poi una delle altre cose che abbiamo fatto abbiamo fatto un piano regolatore in cui noi abbiamo diminuito le superfici edificabili non consumo di suolo zero sotto zero quello che è successo non c'erano sopra non c'erano titoli edificatori erano stati presentati dei progetti per un PEC ma non erano stati approvati quindi eravamo diciamo abbiamo seguito unite nei limiti delle nostre capacità quello che è successo è che uno dei proprietari del terreno mi ha denunciata non eri corso al TAR mi ha denunciata alla procura per abuso d'ufficio anzi in realtà mi ha denunciata e basta la procura mi ha mandato un avviso di garanzia che come diciamo spessissimo se non hai ricevuto un avviso di garanzia non sei nessuno e quindi noi ci siamo preoccupati e quindi io sono partita e sono andata da questa PM a spiegare con il mio compitino guardi che bella che brave che buone siamo tutte femmine noi siamo la giunta è solo femminile quindi l'unica cosa che non abbiamo rispettato sono le quote questo sì lo devo dire questa è una mia grave colpa comunque siamo andati a spiegare risultato totale nell'anno 2015 anno internazionale del suolo io sono stata rinviata a giudizio e ho subito un processo penale un processo penale in cui mi sono stati richiesti un anno e mezzo di reclusione e 150 mila euro di danni perché già che c'erano hanno anche accolto la costituzione di parte civile della controparte tutto questo mentre si stava parlando esattamente come stiamo facendo qui da tempo di una legge sul consumo di suolo allora detto questo diciamo che sempre per parlare di riesilienza una delle cose a cui è servito il mio caso a parte il fatto di farmi perdere qualche anno di vita è che di questo caso si è cominciato a parlare allora posto che io sono d'accordo con quello che è stato detto precedentemente rispetto agli amministratori purtroppo e di questo mi dispiaccio molto della responsabilità per quello che succede è degli amministratori locali alcune volte in assoluta buona fede ma molto spesso hanno una visione molto miope della programmazione del territorio dei piani regolatori però è altrettanto vero che abbiamo pochi strumenti e io se vogliamo sono il caso estremo certo spero che non a tutti capiti una cosa di questo genere però sicuramente se mi è successo è anche perché avevo pochi strumenti di aiuto vi racconto molto brevemente per non te gli abbi come è andata a finire perché poi di solito questo è il punto del fatto che io sia qui non mi avrebbero fatto entrare ma infatti credo che non mi facciano entrare i pregiudicati qui comunque quello che è successo è che e questo va detto per una volta il grande mi spiace che sia andata via la giornalista perché io devo molto alla stampa pur essendo una che guarda pochissima televisione devo dire che parte di questa di questa vicenda è stata diciamo ha avuto una svolta perché io appunto ho raccontato questa storia proprio in un in un seminario della regione Piemonte sul consumo di suolo in cui io sono andata lì non ho detto niente ho solo letto il capo di imputazione il mio capo di imputazione io avevo era un abuso d'ufficio e anche contro l'ottico 97 della Costituzione e il mio il mio capo di imputazione era testuale aver trasformato il terreno edificabile in agricolo allora a quel punto che era un seminario di amministratori quando all'estero del processo penale ci fu un silenzio di tomba e tutti cominciarono a venire a chiedere ma come è successo cosa hai fatto spiegami e questo diciamo perché comunque si sono un po' preoccupati da lì in realtà questa cosa ha avuto una certa eco come vi dicevo sulla stampa sulle televisioni ho avuto un articolo in prima pagina sul Corriere della Sera di Sergio Rizzo che cominciava a sollevare un caso diciamo particolare poi da questo è nata anche la collaborazione perché Pileri a questo punto il professor Pileri a questo punto ha sentito parlare di questo caso quindi ci siamo conosciuti e abbiamo scritto anche questa storia insieme in un libro questo non è lo spot per il libro noi abbiamo un lavoro e non stiamo facendo però è servito perché questo è uno dei casi in cui molti ci chiedono di andare a presentare questo libro non tanto per la venita nel libro ribadisco non è questo ma perché si comincia a parlare in maniera seria perché forse mancano effettivamente in questo discorso in questo dialogo il fatto che le parti si parlino quindi la politica sicuramente parlo di politica diciamo alta diciamo comunque dei livelli diversi degli enti locali ma anche l'accademia e anche il mondo dei costruttori e anche degli architetti ecco una cosa che mi è successa in tutta questa vicenda è che io ho avuto poi la solidarietà da lì è partito poi è stata fatta una petizione a mio nome che ha avuto tantissime sottoscrizioni e io ho avuto e forse questa è l'altra cosa emblematica due forse sono le cose effettivamente una che ho avuto la solidarietà da tutti i settori cioè questa idea che chi non costruisce è contro qualcuno che costruisce o cose di questo genere è veramente una sciocchezza non è così cioè è veramente l'idea di avere la pragmaticità di vedere verso che modello di sviluppo vogliamo vedevo proprio questo studio che è fatto veramente benissimo ma mi fa sorridere perché molti dei dati che sono la base di questo studio è quello che noi empiricamente in un paesino di 1500 abitanti abbiamo messo insieme voglio dire un terzo delle case sono vuote costruire più strade vuol dire maggiore manutenzione e non abbiamo più denaro cioè veramente facendo i conti della spesa senza fare che sono importantissimi voglio dire però è esattamente quello che noi abbiamo applicato e l'altra cosa insieme alla soluzione che c'è stata con formula piena per non aver commesso il fatto l'altra cosa è che sono stata poi candidata l'anno scorso dalle gambiente per l'ambientalista dell'anno pur non avendo io trascorsi di nessun tipo nelle associazioni ambientali e questo devo dire a parte il fatto che a. ero fuori dalla galera e quindi già questo di per sé era un buon risultato b. il fatto che comunque un'associazione ambientalista abbia candidato e poi fatto vincere perché è un premio comunque nazionale questo un amministratore diciamo che è stata proprio la più grande soddisfazione insieme al fatto sempre di essere fuori dalla galera che è questo comunque grazie in questo senso credo che spero di aver difeso minimamente in parte la categoria sì chiarisco che l'invito non era assolutamente per in quel senso ma anzi proprio per dimostrare che sul territorio esistono situazioni positive situazioni in cui si può effettivamente tentare di partire anche dal basso per cambiare le cose e approfitto per ricordare un semplice dato perché senza farlo apposta giuro ho verificato proprio due o tre giorni fa i dati di Laureano sulla trasformazione degli ultimi sei mesi e risulta uno dei comuni che negli ultimi sei mesi non ha consumato neanche un centimetro quadrato di suolo quindi detto questo quindi passerei la parola all'ultimo intervento della tavola rotonda Silvia Viviani Presidente dell'Istituto Nazionale di Urbanistica anche gli urbanisti sono stati messi insomma abbastanza come dire insomma sul banco degli accusati c'è maggiore consapevolezza sta creando questa consapevolezza ancora il mondo dell'urbanistica è lontano un po' da questa situazione e rispetto ancora una volta rispetto al testo di legge in discussione al Senato c'è in qualche modo un qualcosa che potrebbe essere migliorato dal punto di vista di chi poi pratica la professione di urbanista sul territorio oppure in qualche modo quello rimane una cosa scollegata troppo scollegata troppo lontana da chi poi quotidianamente affronta i problemi dal punto di vista anche tecnico amministrativo politico e gestionale grazie buongiorno grazie dell'invito mi unisco ai ringraziamenti ai complimenti sinceri faccio un po' la parte della strega cattiva ma vorrei provare a fare un discorso ordinato negli ultimi dieci minuti di una mattinata densa premettendo che in dieci minuti la storia dell'urbanistica d'Italia non si può fare e quindi la consapevolezza del dove siamo e perché siamo qui che è necessaria non la possiamo fare in questa stanza in questo momento possiamo fare una cosa però perché un insegnamento di questa mattina mi pare vada in questo senso smettere di battersi il petto smettere di cercare colpevoli e forse invece usare la conoscenza usare la consapevolezza per il coraggio e la volontà che occorrono per cambiare per la lucidità che occorre per cambiare perché è questo il punto di fondo noi stiamo vivendo una rivoluzione che non a caso porta le città e le persone al centro di ogni discorso e quindi bisogna avere il coraggio anche se viviamo la cronaca non abbiamo la capacità di chi studierà la storia di dare una mano a questa rivoluzione per questo non va bene indugiare ma non va bene nemmeno quindi non avere un quadro chiaro di tutte le connessioni che sono tantissime e non tentare di valutare gli effetti delle scelte io per chi non mi conosce oltre che presidente dell'istituto nazionale urbanistica sono solo un libero professionista quindi ancora più colpevole e da più di un quarto di secolo lavoro per il pubblico dal libero professionista ancora più colpevole quasi sempre per i piccoli e medi comuni ebbene nelle mie esperienze francamente mi trovo oggi a chiedermi se in questo quarto di secolo ho vissuto in un altro mondo perché molto di quello che si è detto è vero ma non è l'unica verità perché noi viviamo e questo è il primo dato in tante Italie e quindi un primo obiettivo e questo ce l'ha la politica come dovere è riportarci a vivere tutti nella stessa Italia e per riportarci tutti a vivere nella stessa Italia l'urbanistica deve tornare al centro dell'agenda politica l'urbanistica non il green non l'ambiente generico l'urbanistica quella disciplina che può essere al servizio di un'azione pubblica di governo delle città e dei territori per questo poiché l'istituto nazionale di urbanistica è stato al fianco dei governi in 70 anni di storia per le più grandi battaglie per esempio la casa per esempio i centri storici io oggi metto l'istituto nazionale di urbanistica a disposizione della battaglia che serve oggi per uscire da quest'inducio la necessità della riforma urbanistica di cui noi abbiamo parlato fino alla nausea era qui aveva qui le sue ragioni non era un gioco autoreferenziale era la necessità di cambiarla la cassetta degli attrezzi non solo tecnica era la necessità di cambiare la testa che in questo paese non cambia vent'anni di leggi cosiddette riformiste a favore dello sviluppo sostenibile e noi oggi parliamo ancora di consumo di suolo parliamo ancora di lottizzazioni parliamo ancora di comuni malandrini e urbanisti inconsapevoli cos'è che non ha funzionato o non abbastanza cos'è che spiega quelle carte con le italie così diverse con quei colori così diversi il problema è culturale e il problema è che continuiamo a utilizzare termini strumenti comportamenti vecchi non abbiamo il coraggio di abbandonare il già noto abbiamo continuato a fare i piani regolatori generali comunali tradizionali anche quando abbiamo fatto pianificazione d'aria vasta abbiamo continuato e continuiamo in questo paese a legiferare regolamentare e pianificare con la testa solo edilizia edilizia solo edilizia magari ci fosse l'urbanistica quella vera quella buona che esiste permettetemi di dirlo esiste con la testa edilizia dell'alchimia edilizia della pratica edilizia del fascicolo edilizio la cui qualità è pessima persino negli elaborati perché questo dobbiamo andare a toccare dobbiamo scendere su questo suolo scendiamoci in queste italie e per farlo dobbiamo fare squadra per questo io non credo che si debba trovare uno o più colpevoli ma individuare chi ha voglia di fare questa battaglia è un altro modo di lavorare e parlo al mondo scientifico accademico alle professioni agli enti di ricerca alle associazioni culturali alle istituzioni alle cittadinanze attive nel farlo dobbiamo saper condividere i dati provo adesso a scendere e poi a fare alcuni passi concreti condividere dati ho sentito dire uscire dai pdf sì usciamo dai quadri conoscitivi produciamo una mole di conoscenza continua anche i comuni hanno prodotto tanta conoscenza prendiamo i dati che ci servono usiamoli incrociamoli noi come istituto nazionale di urbanistica siamo usciti ora con il nuovo rapporto dal territorio incrociamoli questi dati anche il rapporto dal territorio a tutte le agende regionali anche il rapporto dal territorio legge il nostro paese per le diverse articolazioni quelle articolazioni delle geografie amministrative istituzionali che non rispondono agli obiettivi che ci stiamo dando che addirittura tripartiscono separano città metropolitane aree interne città medie che non uniscono gli strumenti finanziari e operativi che vengono dalle strategie europee e nazionali che ci sarebbero faccio allora a questo punto due considerazioni specifiche ma di quadro e sette passi conoscere le forme dell'urbanizzazione è fondamentale perché la città a cui facciamo riferimento è una città che è profondamente cambiata i nostri strumenti di analisi e anche le nostre nostalgie non corrispondono più alle città d'Italia non a tutte non alle varie forme è necessario perché le forme dell'urbanizzazione ci raccontano anche sulle possibilità di rigenerare queste urbanizzazioni conoscere le urbanizzazioni secondo me significa anche andare a capire cosa effettivamente abbiamo come patrimonio perché le città sono un patrimonio tutte sono il modo migliore che abbiamo inventato per convivere conoscere la pianificazione è fondamentale perché si pianifica tanto ma forse si sta pianificando male è importante faccio ancora un ragionamento di quadro rendere conveniente il recupero e anche in questo senso abbandonare qualcosa di vecchio ma così persistente che era l'invitato di pietra nascosto stamattina in tutti gli interventi bisogna abbattere le rendite bisogna evitarle le insidie di quel perimetro le insidie di quel filo rosso mi dispiace comunicarvi che quando si fa un perimetro e si dice qui no e qui sì dentro il qui sì assume immediatamente un valore e se non abbiamo gli strumenti per intervenire nel qui sì non si fa niente di quel recupero e ci vogliono strumenti pubblici perché quando si sono fatti i piani per l'edilizia economica e popolare in centro storico il motore era il pubblico e per la rigenerazione il primo motore è ancora il piano pubblico bisogna sviluppare le capacità di spesa e la progettualità della filiera pubblica prima di tutto e allora se questo è il quadro qual è il contributo di una nuova urbanistica non dell'urbanistica e basta di una nuova urbanistica di quella che serve perché possa sostenere questi obiettivi che la società si dà e che chiede al progetto politico di difendere con forza le tre parole chiave l'ho scritto da poco sono per me urbanità urbanesimo urbanizzazione urbanità è un termine positivo che ci ricorda che in città dovremmo essere tutti più cortesi più capaci più rispettosi dovremmo scambiarci e rendere accessibili a tutti i patrimoni che altrimenti restano di pochi urbanizzazione perché il territorio urbanizzato da delimitare e su cui far arrivare nel bene e nel male la densificazione abbiamo visto l'insiglia della densificazione o la rigenerazione quel territorio non è adeguato a rispondere alle pressioni sociali e climatiche del mondo contemporaneo e del futuro che avanza il vero progetto il vero cantiere urbano è la riurbanizzazione altrimenti lavoriamo di superficie nei fatti oltre che nei concetti urbanesimo perché tutti si stanno muovendo verso la città non solo le masse di popolazione che cercano il soddisfacimento di bisogni primari la rigenerazione urbana si ritrova un'altra volta come in tutta la storia dell'urbanistica a legare la questione urbana e la questione casa non solo quelle masse ma anche gli individui singoli le famiglie che si spostano continuamente cercando l'accessibilità ai servizi la convenienza la diminuzione del costo va guidato il recupero va guidata la rigenerazione va resa facile va resa conveniente non c'è niente di male nel termine convenienza allora a me sembra che i sette passi per riformare processi e prodotti attengano alla nuova urbanistica da fare che non va per pezzetti mi spiace difficilissimo difficile andare a rattoppare una coperta così lisa difficile non darsi un progetto formativo comune che guidi le università nel formare i nuovi professionisti del futuro che guidi il sistema ordinistico a proteggere la buona professionalità e colpire quella cattiva difficile non essere una squadra unita per dare a tutta la filiera pubblica l'armonia che serve la filiera pubblica è disarmonica è conflittuale comuni contro regioni regioni contro sovrintendenze non si chiude una sola procedura non si chiude un piano non si riesce a ottenere l'aggregazione intorno a un progetto si va avanti a suon di vincoli e l'abbiamo sentito anche poco rispettati il contributo di una nuova urbanistica va secondo me in questa direzione nel rideclinare come facemmo negli anni 60 per la città che doveva rispondere ai nuovi cittadini usciti da una prima metà del novecento drammatica nel rideclinare i nuovi diritti alla vita urbana questo significa nuovi standard significa nuove dotazioni territoriali e urbane noi abbiamo pensato seconda proposta agli ecobonus urbani cioè a lavorare non per sommatoria di riqualificazione di edifici ma per identificazione di parti di luoghi della città ove poter mettere insieme tutti i diversi tipi di risorse da quelle dei fondi europei a quelle della famiglia perché un edificio risanato in un contesto non risanato non darà mai quella qualità collettiva che restituisca alla città il suo valore di bene pubblico di bene di tutti noi terzo bisogna avere il coraggio di valutare cancellare ove è possibile ripianificare le previsioni di piano non attuate di qui non se ne esce di qui non se ne esce se in Lombardia si consuma suolo con una legge a zero consumo di suolo è perché c'è un pregresso che nessuno osa toccare qui a me sembra in generale che il tema sia difficile ma che sia possibile io sono stata fortunata perché nella mia vita professionale non da pochi anni ma tanti in tanti anni ho cancellato molti diritti edificatori e vinto molti ricorsi con sindache sindaci donne coraggiose certo vengo dalla Toscana dove eh dove però vi faccio notare che il paesaggio è un bene economico fortissimo e quindi dove i ricorsi appena tocchi qualcosa piovono immediati perché le nostre campagne sono luoghi inaccessibili ai più eppure ce l'abbiamo fatta con cosa? con la pianificazione perché la pianificazione rende tecnicamente motivabile e sostenuto il programma politico che è discrezionale con la pianificazione con la valutazione con indicatori con le motivazioni per ripianificare quarto punto fiscalità integrata finalizzata alla qualità urbana e territoriale fiscalità perché quasi mai i sindaci parlano con gli investitori si passa sempre attraverso la proprietà e tutto quello sfitto quell'invenduto quei capannoni sono comunque in mano a proprietà molto frammentate fra l'altro io ho fatto spessissimo piani e li sto facendo ancora nei quali ho tentato persino di vietare la sostituzione edilizia in zona agricola e tentare di far sparire ciò che è incongruo e farlo semmai diventare stoffa per i progetti di rigenerazione urbana ma ovviamente è rimasto tutto sulla carta perché chi ha qualcosa da trasferire pensa di avere l'oro rideclinazione del partenariato pubblico privato su nuove basi anche qui usiamo una cassetta degli attrezzi vecchissima tabella degli oneri opere di urbanizzazione tutte cose vecchie che non servono a cui aggiungiamo ma che non andiamo invece a rinnovare davvero rideclinazione lo dicevo delle alchimie edilizie dalle categorie di intervento ai titoli abilitativi cerchiamo di riportare in armonia urbanistica edilizia architettura paesaggio ambiente la sostituzione edilizia in area agricola è considerata recupero mi duole dirvi che con la sostituzione edilizia se si toglie un capannone e si fanno cinque ville con cinque piscine si urbanizza il suolo agricolo mi duole vorrei dirvi che a Firenze in questo momento tutti i cantieri di restauro in centro storico sono sospesi da un atto comunale perché la Cassazione ha emanato una sentenza nella quale si afferma che il restauro non ammette il cambio di destinazione d'uso infine e concludo un nuovo processo e una nuova serie di strumenti con una nuova cogenza da assegnare ai piani sia quelli di area vasta che quelli urbanistici con competenze chiare con compiti chiari in modo da rendere possibile nell'area vasta la perequazione territoriale fra i comuni dobbiamo far mettere insieme i bilanci dei comuni per creare le infrastrutture complesse che contengono paesaggio ambiente mobilità sostenibile sicurezza che sono gli standard dei cittadini del futuro che si muovono nei territori interdipendenti dobbiamo rendere cogenti e molto di dettaglio i progetti i piani urbanistici dobbiamo tornare a riprogettare i marciapiedi le facciate gli alberi riprogettarli sapendo di che cosa parliamo e assegnando un valore economico a tutte le componenti della qualità sociale e ambientale che appartengono a questo modo diverso di progettare grazie grazie Silvia il tempo purtroppo stringe forse abbiamo tempo per una breve domanda da parte di qualcuno se vuole intervenire vuole chiedere qualcosa ai nostri relatori se c'è prego vorrebbe funzionare il microfono anche lì sì vorrei chiedere se nella legge che è in elaborazione in commissione questa che si ferma da qualche anno viene attribuito valore legale al documento di report che produce l'ISPRA questo perché è importantissimo perché nel momento in cui questo documento che dimostra la capacità dello star e delle regioni una volta coordinate di fare pedologia operativa di servizio diventa un vincolo perché è attribuito per legge il valore autoritativo a questo termine poiché viene pubblicato ogni anno permetterebbe di vedere le differenze arriva al dettaglio di pochi metri quindi permette anche ai comuni di usufruirne questo lo dico perché da meteorologo io ancora soffro del fatto che non c'è un servizio meteorologico nazionale e che in Italia per legge non abbiamo le previsioni meteorologiche ancorché abbiamo le valutazioni di impatto delle previsioni meteorologiche cioè l'avviso delle protezioni civile questo fa capire che dietro c'è una grande intelligenza non una stupidità perché per ritardare un processo di controllo di abuso del consumo del suolo e dello spreco del suolo il sistema industriale edilizio e banche sanno benissimo come intervenire in politica per non realizzare non far finalizzare delle leggi applicabili e sostenibili grazie grazie non so se qualcuno di voi vuole rispondere oppure se forse la relatrice a questo punto del disegno di legge se no provo io a dare una risposta con non so se Laura mi ha dato un'informazione che non avevo e quindi ne prendo atto credo che le questioni che sono uscite stamattina viste da punti di vista diversi rendono ancora più problematico come dire il poter pensare di stendere io mentre prima parlavamo mentre ascoltevamo tra l'altro ci siamo accennati un attimo a quello che diceva l'ex ministro Catania rendiamoci conto di una cosa questa legge che ha alcuni punti che possono essere credutamente recuperati altri punti che vanno decisamente modificati e semplificati insomma abbiamo una certa chiarezza diciamo ad ora però abbiamo anche dei fortissimi dubbi in ordine proprio alle questioni legali e agli ricorsi che ci aspettiamo inevitabilmente qualunque sia l'esito finale perché il dramma forse peggiore anche del riuscire a non emettere una legge entro questa legislatura cosa che io personalmente mi propongo di fare spero che il collega correlatore che non è presente stamattina però completi la sua parte relativamente alla parte diciamo agricola e quindi si riesca a concludere bene questo nostro lavoro ma la cosa peggiore sarebbe pensare di aver emanato una legge davvero capace come dire di consumo di suolo e poi scoprire che i TAR piuttosto che le corti costituzionali ci mettono di nuovo ko e ai noi lasciatemelo dire mi dispiace particolarmente perché avevo lavorato anche molto per il referendum relativo al 4 dicembre appunto sulla costituzione credo che un po' di chiarezza in più rispetto al caos che continuiamo ad avere dal punto di vista diciamo della promiscuità delle responsabilità e degli oneri all'interno del titolo quinto ci metta un'enormità di puntini sulle i non cito di più ma insomma abbiamo avuto anche in audizione al senato fior fior di studi legali i quali ci hanno intanto comunicato cose diverse gli uno rispetto agli altri ma soprattutto ci hanno preavvertito come dire con squilli di tromba rispetto al rischio di mettere appunto i piedi nel piatto ragione per la quale io ho insistito moltissimo mandando dei messaggi molto chiari alle regioni di intervenire per riuscire se non altro a capire dove saranno i problemi di domani perché se riusciamo a lavorare capendo come difenderci forse come diceva qualche legale riuscire a organizzarsi in maniera tale che diciamo si preparino i documenti prima di entrare nelle aule e poi scoprire che invece non si è valutato opportunamente una cosa piuttosto che l'altra è particolarmente obbligatorio quando si vuole legiferare in un settore così fortemente critico così fortemente pressato da mille diverse volontà e dove lo avete detto tutti stamattina io lo ribadisco e lo condivido è mancata decisamente una cultura del suolo voglio dire anche che è mancata una cultura della terra più che del suolo perché non è un caso neanche che i tre grandi elementi di cui ci nutriamo senza i quali la nostra sopravvivenza è messa in discussione cioè la terra l'acqua e l'aria cambi il termine che è cambiato dei tre quando lo si lavora quando lo si produce quando lo si tocca guarda caso è solo la terra che è diventato suolo io dico perché è il maschile di suola che così abbiamo sì no è una sola ecco nel senso che è una giustificazione che probabilmente diamo alla nostra mentalità che è una mentalità che purtroppo vede secoli di storia quindi è un problema rilevante di essere effettivamente come dire i proprietari della terra di essere veramente non i tutori ma lo dicevano gli antichi indiani no che è famoso capo indiano con il manifesto che molti di noi magari hanno nelle camere dei figli piuttosto che nelle proprie noi in realtà la terra la consideriamo cosa nostra e la utilizziamo per i nostri scopi e lì di solito fondiamo il nostro grande potere cioè ci sentiamo particolarmente potenti quando la utilizziamo la lavoriamo ne siamo a tutti gli effetti i padroni assoluti quindi cambiare questa mentalità e farlo in tempo così rapido da riuscire a permetterci effettivamente di farla penetrare in tutta Italia scoprendo che abbiamo tutte queste lacune ancora da sanare non sarà cosa facile però io rispetto ai colleghi sono nata ottimista e rinasco ogni giorno quindi sono sicura che ce la faremo grazie io approfitto per ringraziare tutti i relatori mi dispiace non c'è tempo per un secondo giro per altri interventi quindi grazie grazie veramente di tutto di tutti i vostri contributi prima di dare la parola a Luca Marchesi direttore di ARPA Friuli Venezia Giulia e soprattutto vicepresidente del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente ricordo anche per dare qualche altro elemento di risposta a quest'ultima domanda che di fatto già la legge 132 del 2016 attribuisce l'ufficialità del dato ambientale al sistema nazionale per la protezione dell'ambiente quindi già oggi in realtà questo report di sistema è di fatto un riferimento ufficiale per le amministrazioni pubbliche dello Stato quindi do volentieri la parola a Luca Marchesi per le conclusioni grazie allora io prima di tutto vi chiedo un applauso per Michele Minofo e per i colleghi di Ispra che hanno organizzato questa bellissima giornata chiedo a Michele di raggiungermi allora la prima cosa che vorrei dire io mi è stato affidato un compito particolarmente improbio perché conclusioni una giornata così è difficilissimo darne provo a dare alcune conclusioni dal punto di vista mio atteso che sono stato qui a ascoltare e imparare e vi dico che cosa ho imparato e che cosa provo a trasferire nel lavoro del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale per i prossimi mesi anni la prima cosa è qui oggi abbiamo visto un lavoro che è stato apprezzato mi pare unanimemente da tutti dal livello politico dalle categorie professionali dagli enti locali sino anche dall'Accademia quindi deve essere un lavoro insomma di qualità e è un lavoro che è prodotto del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale ben recita la slide che Michele ha messo in bella vista per tutta la giornata questo è un elemento di novità che forse vale la pena di sottolineare cioè c'è una legge dello Stato la legge 132 del 2016 appena citato che istituisce in questo paese si deve all'iniziativa parlamentare dell'onorevole De Rosa dell'onorevole Rilacci dell'onorevole Bratti istituisce in questo paese un servizio pubblico di controllo monitoraggio ambientale con un'accezione molto ampia una delle funzioni espressamente citate dalla legge è esattamente quella di cui parliamo oggi conoscenza e monitoraggio del suo consumo è un di più rispetto a quello che c'era prima sì secondo me oggi ne abbiamo un'evidenza il rapporto che vi è stato illustrato è stato costruito attraverso capacità di conoscenza studio detection centrali dell'ISPRA progetti Sentinel Copernicus il database la conoscenza la capacità di analisi la competenza professionale di Monafo del suo gruppo è un lavoro molto puntuale sul territorio che possono devono possono fare solo le agenzie regionali e quindi sottolineo che c'è un contributo molto importante delle arpa del Piemonte della Lombardia del Veneto del Friuli Venezia Giulia della Liguria dell'Emilia Romagna della Toscana della Puglia e forse qui mi devo fermare quindi qualcun altro insomma però diciamo che Lazio bene allora va bene allora io direi una cosa che per noi il sistema c'è un elemento di riflessione che è noto diverse capacità di lavoro in diverse aree del paese e c'è quindi una prospettiva di lavoro seconda cosa che vorrei dire mi pare che al di là dei diversi toni si è emerso con evidenza nel merito dell'argomento che c'è la necessità evidente e urgente di dotare questo paese di una norma sul consumo di suolo la senatrice Puppato ha citato in apertura il tema poi ripreso da altri relatori delle diverse iniziative legislative regionali non coordinate per usare forse un eufemismo se non distoniche questo è un tema in realtà frequente insomma che non riguarda soltanto questa materia su cui importante il tavolo con le regioni che è stato citato e che io credo che sul tema ambientale compressivo vada rimarcato quindi continuo a trarre conclusioni un po' dal punto di vista del sistema nazionale di protezione ambientale abbiamo suggerito al presidente Bonacini l'attivazione di un tavolo di confronto col ministero per l'attuazione della 132 e questo è un tema che secondo me va ripreso fortemente sottolineato come ho avuto modo di recente di comunicare in un'audizione alla camera presente credo anche l'onorevole De Rosa è stato citato anche il tema degli indicatori ecco su questo vorrei dire questo è proprio un terreno tipico di lavoro delle agenzie nella legge 132 viene affermato che l'informazione ambientale ufficiale del paese è quella prodotta dal sistema e che il sistema ha il compito per l'appunto di armonizzare la lettura dei dati la loro rappresentazione informazione e rappresentazione dei dati e quindi il compito di alimentare gli indicatori allora su questo credo che come sistema sulla lettura e costruzione di indicatori coerenti anche al fine di leggere in maniera corretta il dato di consumo di suolo in regioni che avranno discipline differenti compreso quell'aspetto che è stato suggeritato di che cosa può essere decurtato cosa viene contato e cosa no ecco noi qui possiamo fare un lavoro che consenta anche di rattoppare i pezzi che il legislatore regionale più o meno scientemente decide di stracciare l'altra cosa che vorrei dire è ho apprezzato molto un passaggio dell'architetto colletta sul tema che consumo di suono è certamente un tema degli architetti degli urbanisti della pericolazione territoriale ma è un tema culturale e di modello di sviluppo e lo è per il paese per il suo modello di sviluppo industriale ed economico lo è anche sin anche nel nostro piccolo per il sistema nazionale di protezione ambientale cioè non è frequente che noi parliamo di questi argomenti anche qui ho usato un eufemismo è piuttosto raro diciamolo pure perché le agenzie regionali vengono da una certa storia i colleghi in sala lo sanno bene vengono dal mondo dei PMIP del controllo analitico insomma perché probabilmente anche noi dobbiamo fare un passettino dal punto di vista della consapevolezza allora siccome il tema dell'attuazione del 132 è innanzitutto un tema di riposizionamento strategico molto di ISPRA ma anche delle agenzie nel senso che ISPRA deve probabilmente occuparsi sempre molto ma un po' meno di ricerca finalizzata all'attività di controllo e monitoraggio e le agenzie che devono e fanno essenzialmente attività di controllo e monitoraggio devono comprendere che vi è una possibilità di leggere rappresentare le informazioni che nascono da questa attività per farne strumenti di governo di supporto al governo ai diversi in questo io credo che noi dobbiamo riposizionarci proprio ripensarci come sistema e servizio pubblico di protezione ambientale di questo paese quindi senza nessuna presunzione o ambizione di aver detto cose particolarmente intelligenti ma di aver toccato due o tre punti che come sistema io credo ci dobbiamo porre come dimensioni di lavoro per il prossimo triennio chiudo quindi ringraziando voi per aver ascoltato ringraziando chi ha prodotto questo straordinario lavoro confermando l'impegno del nostro sistema che ho l'onore di presiedere insieme a Stefano la porta che spero a breve sarà nella pienezza dei suoi poteri di Presidente Ispre quindi Presidente del Consiglio del sistema l'impegno di questo sistema a continuare a produrre questo tipo di strumento che lo dico l'amico meteorologo è per la 132 lo strumento ufficiale che le amministrazioni pubbliche dovranno utilizzare lo dice già la legge poi è chiaro che la verba è scritta insomma però ecco di continuare a produrlo e di produrlo in maniera sempre più organizzata completa riferita a tutti i territori regionali grazie arrivederci buon pomeriggio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti